sono in live come ho anche la maglietta verde che vi piace tanto buonanotte ciao buonanotte stavo giocando a rimpiattino con il mio lupo farli ma per sbaglio ho tirato la sua palla in quel buco e lui l'è corso dietro ora è bloccato la sotto mi sento così inutile qui seduto ad ascoltare i suoi guaiti che si vanno indebolendo non c'è molti cuoriti ma porca puttana non piangere riavvio non sono più bellone guardami bene aspetta che vengo a vedere cosa stai stremando non è quello che sto stremando è quello che sono ora sto riavviando perché non c'è il non c'è più l'osso no 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 l'osso c'è sempre e non torno era questa la sorpresa che si imputtano avuto sii era quella ma sono online non sono online no c'è scritto che sei ah è uscito un aggiornamento di hobs adesso è uscito un aggiornamento di hobs minchia riavviando hobs è uscito l'aggiornamento di hobs si è bollentito il cuore a me no cazzo non lo dici ora sono online ma ho sbagliato perché sono a 720p ah perché quello che quella è la cosa che hai notato ma davvero è quello che stai notando non stai notando altro e cazzo sei stato in laser per un secondo e mezzo va bene adesso ci sono aspetta che refresh se ti sei tagliato la barba ti leggo il foglio troppo tardiii troppo tardiii vabbè ma sei un bimbetto del cazzo come io si prova a vedere a schermo intero una live a 720 Marco provaci anche Max Bunny si vede di merda quindi vuoi dire che le mie live si vedono di merda? nooo dai non c'è il mumato di oggi sto cazzo di multi no 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 ho appena detto che le mie live si vedono ti sto mettendo le corde eh le t'ho detto anche perché non riuscirei a chattare se le mettessi a schermo intero per quale motivo? come faccio a usare la chat se c'è la live a schermo intero? ohhhh ohhhh mo c'è posto tutto va bene mi fai vedere che cazzo di gioco vuoi stremmare? eh Bugs Bunny si è frizzato tutto oh no 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 mi sono frizzato io quando? quando ho detto Bugs Bunny tu non l'hai giocato dilla a Meghina Meghina l'ha giocato sa che è bellissimo diglielo Meghina sei cosa strema questo qua? bello sbaglio va bene non ho sentito la reazione di Meghina ha detto ucciditi ma perchè? no non è vero ha detto oh che bello brava Meghina diglielo Meghi mi daresti un Kinderfeld mamma mia va bene ste io rilascio va bene Skid mi metto un po' nel letto e non ti va ok grazie del lost no ma questo cazzo è back lost in time questo è stupendo oh vedi hai capito qual era allora questo è stupendo questo è un capolavoro quando ancora esisteva la Info Graves mamma mia il giocone della Info Graves mamma mia ciao Yangu il miglior gioco della storia dell'Unitoon su PS1 esatto ma anche in assoluto direi non solo della PS1 sempre comunque il fatto che ti siete dentro la barba semestratta va bene va bene dovevo cambiare dovevo cambiare ma cosa devi cambiare sempre la barba mi annoia Skid buonanotte 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 Skid grazie del lost ciao ciao salutami Meghina ti saluto ciao 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 fatemi chiudere ops e anche Steam che non c'entra proprio scusate raga suoli sono avviato tardi ma ero da quel bellone di Skidro e mi sono perso guarda Meghina a giocare a Resident Evil ho visto Zevo questo gioco di recente mi hanno detto che l'ho giocato di recente ma noi l'avevamo già in programma da un anno sto gioco beh stai noi sappiamo che piace come la miglior console i giochi basati sui cartoni animate quello si mamma mia quanti feels ci saranno adesso eccomi qua Pismo Beach ehi aspetta un minuto questa non somiglia affatto a Pismo Beach mi sa che ha dal buchetto che dovevo girare a destra e poi uuuu guarda le dimensioni di quel distributore ma davvero l'ha così fatto male l'audio si anche bugzetta ma quello non l'ho mai giocato perché ce l'avevo su PC e giocarlo con mouse e tastiera era un parto ma questo è il luogo che vedremo soltanto nel prologo e poi non vedremo mai più tipo giusto da nessuna parte mamma mia se me lo ricordo mamma mia mamma mia ma ma c'è qualcosa che non va è un pochino scordinato sbaglio no c'è l'audio c'è l'audio in anticipo eh no dai non è mai successa una roba del genere questa è nuova oh troviamo bug nuovi ragazzi incredibile abbiamo trovato dei bug nuovi per un'agonia perché anche se eri insicurato di giocarlo lo stesso sia contato che il combo sbaglio temporaneamente quante bestie si ma infatti l'ho mollato subito quello lì quello non mi ha proprio preso i giochi bug sbagli ahahahahahahahahah pessimo pessimo ciao jiji allora fatemi togliere un po' di roba inutile sull'emulatore Boh, proviamo così Anzi, muliamo direttamente l'immagine disco stavolta Perdoniamo il contrattempo Spero di non dove cambiare motore però Non voglio cambiare plugin, ti prego Sfavigliato a Bobby Ha detto Succa Ha detto Succa ragazzi No, non so i dettagli video il problema, il problema è proprio l'audio Il gioco va a velocità normalissima No, è qui che si rallenta, non capisco perché Dio Oddio Oddio È bellissimo Basta però Va, ho disegnato Bugs Bunny No, non è vero Questo non funziona Allora, cambiamo, proviamo Questo Che è lo stesso che avevo giocato No Non voglio usare OpenGL però Facciamo questa risoluzione per due dai Sti cazzi Vai Proverò a sistemarlo offline Adesso voglio iniziarlo subito Aiuto Mello Grazie per avermi liberato Ser Forteschi Tieni i miei sporchi bits Grazie Rivellini TVB Ma va ancora peggio ragazzi Ah no, ma c'ho il primlini Mazza quanto si vede male Con questo Quanto si vede male Ma sei schifo sto video? Dove per forza arrivare Ok Stai disegnando su Paint Esatto Ma non voglio schifare ragazzi Marco Ragazzi L'ha fatta così ragazzi Davvero Davvero l'ha fatta così male Sta cazzina Non è un problema delle emulature Ragazzi È fatto così il gioco Ragazzi È risoluzione normale questa Lo sto emulando come è fatto Cioè non Niente male come trucco Merlino ceccino Tu lo sai fare questo? Era fatta così ragazzi Mi pare di sì adesso che ci vengono Sei sicuro? Io me lo ricordo un problema del genere Così almeno avrà un hobby Ma io mi sento ancora un po' lontano dal mio abitato naturale Mi spiace interrompere questa dimostrazione spettacolo ma saprebbe dirmi dove mi trovo? Sembra che tu ti sia perduto nel tempo mio caro Qui non siamo in nessun luogo In nessun luogo E sa dirmi come faccio per tornare in un qualche luogo? Certo che lo so Devi andare da un'epoca a un'altra E trovare... Esiste una solo visione in italiano Se questa non va Siamo fottuti ragazzi A nuovi luoghi E ti riporteranno progressivamente al tempo presente Gira normalmente Allora Fai attenzione Però io me lo ricordo un bug del genere Nel vero bug sbunny No ho paura a provare a farlo con OpenGL ragazzi Ho veramente paura a farlo andare con OpenGL Cioè se non va con OpenGL Comunque Forse devo provare un'altra Proviamo CCD Proviamo CCD Che io avevo solo provato a vedere se partiva Non avevo provato a iniziare il gioco Cazzo Però sta cazzina andava bene La prima andava bene Boh Se dite che su YouTube si vede normale Vediamo No niente Si rallenta Si vede benissimo che si rallenta lui qui Vedi che va rallentatore E evitare di restarci più a lungo Vieni Entra Come stai? Il mio nome è Merlino E sono un mago Sì Sul serio Un mago Ciao I'm Swampy Ciao Akai Anche se t'ho parlato fino adesso Ciao Marco Anche se t'ho parlato fino adesso Ciao Ribellini Anche se t'ho già ringraziato Ciao Jay Anche se t'ho già salutata Ma per me era bugato sto video ragazzi Ma non è vero Voi mentite Oh se qualcuno sa dove posso trovare un'altra ISO Che non sia quella di Domon Station Perché il mio CD non funziona Cioè non lo trovo più L'ho perso Ho proprio perso il CD dove avevo bug banni Sembro ubriaco comunque Mi spiace interrompere questa nostra azione spettacolo Ma saprebbe dirmi dove mi trovo? Sembra che tu ti sia perduto nel tempo mio caro Sentite Guardiamoci sta cazzin così Poi vediamo se lo fa anche gli altri In nessun luogo E sa dirmi come faccio per tornare in un qualche luogo? Eh me lo ricordo anch'io un video in The Sync infatti Un'altra E trovare simboli come questo Essi ti daranno accesso a nuovi luoghi E ti riporteranno progressivamente al tempo presente Allora Fai attenzione coniglio Raccogli dieci di questi oggetti Per ottenere un simbolo orologio Basta basta così per ora Ciao Sì ti vediamo Berlo Delle carote? No ma vedete che è un problema del gioco Dai C'è manca proprio una parte di Hanno dimenticato proprio di doppiare Che mi diceva delle carote d'oro Non hanno proprio parlato delle carote d'oro Sì speriamo sia solo su sta cazzino Quella di prima per esempio non laggato Fatemi rimettere l'altro motore però Che odio OpenGL e mi fido ben poco Sapete cosa mi fa OpenGL a me Con questo plugin va avanti due minuti Poi crasha Lo sappiamo benissimo Fatemi rimettere il mio HD Che avevo pure modificato roba Che magari mi serviva pure Aspetta Special Game Fix Vediamo se c'è qualcosa per Pogsbunni No 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 Allora Non lascio Mostafa Emo le del program Voila Non funziona manco il self state Fanculo Rivediamo ancora il video Che Che dove è con No Allora posso skipparlo Dai No 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 Vedi sto video qua andava perfetto Questo non è laggato Bravo Mangia le carote E' questo che laga Su sto punto qui Che cammina a ralentatore L'ha detta la cosa delle carote Adesso sordo io Allora Che vi devo dire Go Davè questo era il tutorial Possiamo anche evitarlo Ce lo dovremmo ricordare a tutti Giusto Ho dimenticato di cambiare Il joystick Cioè C'è il configurator joystick Senza analogico Senti che mangia la carota Ultimo problema Che abbiamo finito World shock Voilà Ma davvero atipico Non l'avrei mai detto Che il video non era a tempo Con le parole Ma dico forse Era la cosa Che stavamo cercando Da fixare Da tre ore Atipico Che ne dici Guarda Mi hai fatto da un calcio alla mela Non lo prende Bugiardo Non è quadrato Forse ho bisogno Del tutorial Premi il tasto R1 Ah R1 Voilà E poi E poi Tanto il tasto direzionale Premi il tasto quadrato Per metterlo giù E il tasto quadrato Per buttarlo via Ok Ma che GG E la musichetta Non è che mi dava un premio Non è che in quest'area Non ci torniamo più Mi pare Quindi non è possibile Che ci sia Una sveglia O roba del genere Giusto Non credo proprio Possiamo andare Torre di sigrote d'oro E vai da Merlino Alla torre Ti darà la sveglia Che ti serve Per andare via Da qui Quando vedrai Va bene Devo farlo Ragazzi Allora Che ce devo fa Con sta roba Si ma l'obiettivo Devi parlare Con i cartelli Se non niente Garote Va bene Se non stavi bene Garote Ciao Connina Ci giocavamo Tutti Connina E' uno dei giochi Più belli Del mondo Tranne per Zeb Non ci arriva Meglio di così Non si può fare Ho capito Ma finché ho sta roba In mano Qui non posso Clicare niente Per avere la risposta Alla domanda Con i tasti R1 Mentre stai correndo Prova la funzione R1 Devo premere R1 Su ogni cartello Per attaccare i nemici Vado Che figata era La rucolata Mamma mia Usa le funzioni Salta O colpisci Per combattere Alcuni nemici E le due funzioni Combinate Per combatterne altri Io lo vedo ancora Buggato Ragazzi Non so voi Ah lo dovevo tipo Schiacciare Ma do Che casino Che era schiacciare i nemici Ho già Ho già Levele Ho capito Ma c'era un cartello Che mi aveva parlato Da solo Prima E sono gli altri Cartelli Che hanno fatto Gli stronzi Che vuole questo Che ha detto Non ho Che non ho Ah devo aspettare Che si stanchi Quelli che non caccia in culo Ok Poi spostare Degli oggetti Usando la funzione Spingi Può servirti Anche per arrivare A un oggetto O a una zona Posti troppo in alto E perché vedi Le carote Appaiono solo dopo Se apparivano subito Almeno capivo Che dovevo Fa' quella roba lì Direi fast E poi non servono I bauletti Ah qui servono E come lo porto su Dove va Ma così lontano Ma è pazzo Rimani qui Ok Skiddy Dicono che le persone Che si restano sempre uguali Siano più intelligenti Perché rispravano i pensieri Per qualcos'altro Di più utile Mamma mia Kai Mamma mia Quante soddisfazioni Ma cosa Ha saltato direttamente qui Ma ma Come lo metto giù Così E no E no E no Però E dai Ecco perché Me ne servono così tanti Ma va che salti Della madonna Che fa con la cassa in mano Bugs E pazzo Ah beh Un coniglio Sai com'è Voila Fine Sì E' apparsa la carottina Sul cartello Visto In questo caso E' solo per risparmio E basta Ma lo adoro così Ma in realtà L'ho indossata solo Per Skidro Oggi Perché io Mi ero già messo In pigiama Però ho detto Vabbè Non posso farla là In pigiama Metto la maglietta verde Che piace tanto a Skidro Eh Sono morto Le vite erano infinite In questo gioco Questo me lo ricordo Facciamo prima questo Puoi raccogliere degli oggetti E lanciarli contro i nemici Puoi anche raccoglierli E andare a posizionarli Da un'altra parte E' lo stessa cosa Che mi ha detto prima Solo che me lo dice Con la mela Easy peasy Esciamo a tre Questo che vuole Il maioncino pigiamoso Ma non ho ancora Quel pigiama lì È ancora a lavare Ah no Forse è a lavare Sì sì L'ha lavato Potrei indossarlo Sono senza barba Ragazzi Amatemi anche No 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 Scusate Non l'ho ascoltato Perché quel coso è esploso Merlo Per atterrare in columni Su oggetti esplosivi Come le casse del TNT Usa la funzione Orecchie Per atterrare dolcemente Su di essi E io so qual è la funzione Orecchie Dico bene Perché non mi dice il tasto Dai Ma sei uno stronzo Bugs È il cerchio Me lo so ricordato A memoria Ragazzi Guarda Ah ma c'era Me lo dicevano Me lo dicevano Subito dopo Va bene Non dico più niente Va bene Va bene È colpa mia ragazzi È solo colpa mia Basta L'ho fatto Fa vede qua Grazie Connina Sì sì Me lo ricordo Le orecchie aereiche Non me le ricordavo Cos'era Ma c'è la carota Sopra un tizio Ma che tristezza Va bene Allora Fate tutte Qui sì Là no Arrivo Merlo Puoi usare oggetti Come martelli di legno Per mettere fuori Combattimento Un nemico Ma devi farlo In prezzo Funziona Solo per poco tempo Va bene Sei bello anche così Per carità Non dico altro Se no ti offendi Va bene Faccio schifo Capito Oh Ma era più giusto Della prima mazzata Con il dato Vabbè Ma non voglio Giare la telecamera Voglio togliere il martello Guarda Hai la 1.70 No La 2 1.0 Non piangere Oxino Non piangere Hai fatto uno Stoxy Non lo so Grazie Connina Vedi Connina Mi vuole bene Veramente Non come voi Ma non è possibile Posso fare un complimento A questo ragazzo Che lo prende per un insulto Ma no Ma no Perché Ho capito Ma non devi aver paura Di dirmi le cose Col paccioccone Mi hai offeso Cazzo Se mi hai offeso Col paccioccone Però Le altri complimenti Ci stavano Ah no Hai finito di lavorare Hai il cagotto Che bello Oxi Che bello Hai finito Quindi C'era fine Oxi Che cadet Ah che devo Sì sì Questo me lo ricordavo Eh Che vuoi Ah non dovevo svegliarlo Salt Domani lo finisci Va bene Fai quello che ti avevo detto Non un letto Tipico Incolla di nuovo Siamo a nove Ne manca una Questa è l'ultima Vabbè Questa me la ricordo Dai Salta E premi La funzione Immersione Su un buco Del coniglio Per andare Sottoterra Su un buco Del coniglio Giungi un buco E salta Vabbè Che bella Che era sta cosa Mamma mia Sì ma Sì ma Telecamera Ok Che sto Sto giocando Con l'analogico Poi Un gioco PS1 Non dovrei usare L'analogico Però mi fa male Il dito Dopo un po' Spirate un attimo Se io me ne sbatto Le valle Cado in acqua Posso anche Fa così Fanculo Mamma mia Brivido Ok Pestello di Merlino Lì Sì Ci vediamo Merlino Raccogli questo Per cominciare Il tuo viaggio Ti porterà All'età Della pietra Su quello stand by Bellissimo Quello è bellissimo Domani Ti voglio vedere Con una barba Come la mia O ti panno Dal mio canale Non ti posso vedere Così liscio Come un culetto Va bene Stupendo Grazie Merlo Nient'altro Ah sì Certo Raccogliere carote Ti aumenterà L'energia Basta Basta così Per ora Ci incontreremo Ancora Durante la tua avventura Viaggiare nel tempo È uno dei miei Possessi Sì Ci vediamo Merlo Ti spiegherò Qualche altra cosa Più tardi Viaggiatore del tempo Arrivederci Sì Ci vediamo Merlo Mamma mia L'ha detto L'ha detto Basta ragazzi Beh perché no Dopotutto hanno riso Anche di quello Che ha scoperto La penicellina Questi paragoni Comunque Notte Ski Da domani Fai finire Quel gioco A meghina Che non ne può più Nessuno No scherzo Però devi farlo Finire Perché Perché voglio Vedere il finale Voglio vedere La reazione Di meghina Al finale All'inizio Dici Ma che cazzo E alla fine Per risultare La quina Ma no Piangere No Minchia ragazzi 120 sveglio Per tornare qui Nel nulla Credo fosse nulla Qui quindici Cinque Trenta C'è la super Per primo Letà Della pietra Quante volte Ho fatto Sta cosa Qui Per poi Scoprire Che non c'è Niente In cima Mi piaceva Far sempre Sti salti Sulle costole Andiamo via Nessuno Ritardo Tua per sole 99 carote Un vero appare Ci sta Coniglio in arrivo 9 sveglie 22 carote d'oro Appena lo finisce L'ho formato Va bene Oggi Oggi si va a cacciare Di conigli Sì coniglio Coniglio Titi Ehi Che succede Amico Un coniglio Un coniglio Sì sì coniglio Coniglio Visto che le carote non mai sono legate Eh sì Però una carota d'oro Non è niente Però sì Per il 100% Serve anche quella Mi ricordo che da bambino Rifacevo tante volte Sto livello Perché era il più facile Quanta Mabezza Oddio Sto bambino Quanto sei bello Ma grazie Sono il figlio di Stefano Mi chiamo liquidino XT Ma qua che c'è Ah 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 Buono lì E fuori dai coglioni Che poi Io ricordo di questo gioco Lo completai al 100% Da bambino Ma io continuavo a cercare qualcosa da fare Perché mi piaceva troppo Mi piaceva troppo E anche completato al 100% Continuo a rifare i livelli all'infinito Sperando di trovare una sveglia segreta Qualcissiasi cosa Ma no Non c'era più niente Ricordo che c'era un nemico In un livello Che se ti toccava Ti toglieva le Le carote d'oro Quindi mi facevo togliere Le caretto d'oro apposta Per rivederle Perché non ne vedevo più Avendo completato il gioco al 100% Pensate quanto cazzo ero triste Mamma mia Mamma mia Eh ma quando te ne manca una E' iniziata da dire Eh sì Quello sì E' iniziata mi faceva Quando si sbagliava il tuffo Su questo asso che ho spostato C'erano delle galotte Ah non le ho prese Iniziamo benissimo Ah ma io pensavo che il gioco andasse avanti Di qua Invece non è vero Ecco Sono arrivato lì Pensavo che il gioco andasse avanti per di qua E quella fosse opzionale Vedi infatti c'è roba qui Mamma mia Che fastidio Quelli che però Eh dai Quello era fastidioso No era questa La strada opzionale Va bene Ti capisco stare al problema di non avere giochi di ricambio Passare anni sullo stesso tizzolo Pure se non poteva offrire altro No più che altro Cioè speravo davvero di riuscire a sbloccare qualcosa di nuovo Qualcosa che ancora Magari non era implementato nel gioco Non lo so Facevo i film nella mia mente Mi inventavo delle trame sui videogiochi Lasciamo stare Andiamo avanti Era da Fiddac Mi pare di sì che era da Fiddac Da Fiddac vestito da Robin Hood tipo Ricordo che mi facevo pigliare tutte le carote d'oro E poi le ho picchiavo per riprenderle Solo per rivedere le carote d'oro di nuovo Che mazzata che mazzato Che mazzata che mi ha tirato Ciao Ciao Ah si salvava così Grazie Merlo Ciao Sì Ci vediamo Merlo Non lo faccio Pandemonium Ragazzi lo sapete Che i platform sono molto rari da me I platform sono molto rari da me Questo l'ho fatto perché Essere sincero Volevo rivederlo anch'io Questo gioco veramente Non lo vedevo da tanto tempo E anche perché tutte le persone Tutte le persone che l'ho visto portare Poi lo interrompevano Non lo portavano mai A complimento Quindi Voglio portarlo per questione di principio Perché non penso che su Twitch Questo gioco sia mai stato fatto del tutto Magari uno lo faceva così Eh guardate che bello Sbaglio il giorno dopo non lo portava più Sono sicuro che è sempre stata così Fantastico Un sabo un foglio Vabbè No dai ci posso provare A portarlo un giorno Pandemonium Solo perché me lo richiedete Veramente in tantissimi Mamma mia Io non l'ho nemmeno mai visto Sto Pandemonium Per quello che so Sottitubante Cioè non sarebbe un gioco Dell'infanzia Per me io non l'ho mai visto Capite? Che era il problema Aia Non me lo ricordavo O là Ok Alcune erano nascoste anche abbastanza bene Non c'è una carota d'oro qui L'ho già presa? L'ho già presa E' ripartita E' ripartita E' ripartita Coliglio Non è vero che mi ha visto Lo posso schiacciare? Sì Lo posso schiacciare No non mi dà niente E' immortale Dico adesso Serve solo per raggiungere qua sopra Ok 10 su 10 solamente perché il caso ti fa male se lo vi a tocca Ma no davvero Continua a mancare la roba Cosa ho mancato? Che cosa ho mancato? Ho lasciato la roba indietro? No Che male C'è qualcosa qua dietro? Merda No Abbassati Abbassati Bastardo E se porti i bagzettati Maggiare il tempo in co-op con Ken Come si fa? Ma scherzi Non si può Mica c'è l'online E che? Come andare sul ponte Dove c'era il checkpoint C'era un'altra strada Troppo tardi Mi sa Cosa? Ma dove? Qua sopra? Tornando indietro Ma puttana Di tutto Di tutto Ma puttana Di tutto Ma puttana Di tutto Di tutto Esiste modo per attivare la co-op online? Davvero? Ma sarà con quel co-programma lì Quello strano Come si chiamava Ah beh era questa la zona che dicevi Oh no Iiii No Una volta che ero pronto No Spera ma di qua finisco il livello Ma cazzo Ma cazzo Allora La strada Ma Ah 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 Era da qui che sono venuto Pirla io Di lì si va avanti Ma non voglio finire il livello Voglio completarli tutti Ragazzi Non scherziamo Su Usciamo qui per pettinare Akai Cheatmore Dove cazzo è la strada qui? Que- ah quella? Beh cos'è che ha detto? No ah no Non ho capito No Forse queste qui mi servono per saltare più Più lontano Puttana tutto Choque Me gira Usviolent Unvero Unissimo 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 Mi pensi già Ehi Ehi Unissimo ah perchè tu dici che io non riesco più a tornare indietro adesso manco se metto le pietre provo a saltare più lontano e poi ma che non va avanti quando fa sta roba rimane fermo non è una roba per planare è solo una roba per atterrare no non posso più tornare indietro c'hai ragione eeeh vabbè e vabbè non c'è point è lì va bene poi lo rifacciamo che due coglioni andiamo da dei dei qua minucci no non l'ha fatto addio sono tornato e poi questo sta prendendo le foglie dal nulla eh sta mordendo il nulla le pietre sopra il tappeto no no era troppo alto no 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 olas mi ma no come si è girato visto che 180 che ha fatto bello che rimbalza finché non trova il burrone su cui cadere questo era bellissimo gioco vecchio bug passabile no no beh guarda dal lato positivo un'olta che niente per prendere quelle due rovetta e uscire dal livello perché si può uscire dal livello un'olta presa poi come funzionava devo andare lento tipo cosa mancato due carote due carote ne so che rifinisce il livello in teoria fantastico no no mi so fermato alla fine dai perdonami ok e no ma sei stronzo però no non fare il cattivone bastardo lol io non posso ripartire finché non ci rimette a dormire che te lo dati lo stronzo oh buono eh qualcuno l'aveva mai notato che c'era scritto bugs bunny qui mi sa che solo con le texture in hd si può leggere oh ma c'è roba qui sotto non così sotto però bugs cazzo no no sclero veri ciao veri come uscire c'è altra roba sotto si si ho visto ho visto ho visto eccola lì non si è appigliato però ah buono e vabbè ma che piatto la sto cazzo di coso no non ci riesco no wow 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 va bene aspettiamo se no stiamo via lini in eterno bugs burlone minchia oh stavolta mi metto più in qua possibile cazzo oh ce la fa a saltà non ce la fa a saltà guarda che non c'è niente lì che c'è per carote ho perso quindi va bene bene Ricordi questi giochi con una grafica decente? No, quello no, assolutamente non me li ricordo con una grafica decente, che vuoi? Va bene! Come me l'ha fatto pesare! Lascia che salvi la tua posizione, si, ci vediamo Merlo, grazie Merlo, si, ci vediamo Merlo, allora, una sveglia e tre carote, go! No 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 no! Wabbit on the run! Halloh, dove cacchio è che l'hai vista sta cosa Marco? Il ponte, devo trovare il ponte... Ah, no. no speedrun non l'avevo centrato mai a parte che lì c'è una... ma come ho fatto a non vedere? forse l'ho vista e l'ho ignorata come ho fatto a non vedere sta roba puttana dai che sono lì non sono lì l'ho toccato l'ho pure sniffato quel dinosauro dai e muoio è stato troppo presto ma ci ha mai preso qualcuno questo? quanto sono belle sti hitbox eh mi devo un attimo abituare perchè sono veramente distorte ok abbiamo tutto adesso ben minchia posso usci così? me le salva le cose? in teoria in teoria so già che devo rifarmelo adesso no fantastico perfetto hai completato questo livello merlo lascia che salvi la tua posizione salvami tutto merlo grazie merlo grazie merlo ci vediamo merlo non riesco a non dirlo insieme a lui qui c'è il boss c'è Taddei qui no questo è un video vediamo se lagga questo ma davvero c'erano episodi dove lui faceva il cavernicolo? io l'ho sempre visto come cacciatore Taddei tanto era stupido mamma mia il sistema il boss più stupido della storia minchia sei cattivo però no yuhuu coniglio yuhuu coniglio yuhuu coniglio sbam ah ah migliore carote ah no non ha saltato merda ha risposto in ritardo yuhuu coniglio guarda questo guarda questo sbam ah di già va bene fantastico fantastico ricordo che una volta l'avevo buggato sto boss tipo continuava ad andare contro il muro ma non sbatteva rimaneva in eterno così però senza le stelline madonna l'attacchio non è tolata tanta roba tanta roba tanta roba mi sembra di sì dove faceva il cavernicolo non so dirti di più non l'ho mai visto io fantastico perfetto ah hai completato questo livello sbam abbiamo già sbloccato livelloni qui lascia che salvi la tua posizione sii ci vediamo merlo grazie merlo ciao si ci vediamo merlo mi sembra la cremuccia go ti voglio su die hard vendetta ma i tuoi giochi atipico sono tutti strambi sono tutti strambi i tuoi giochi atipico i tirati sii vero che c'erano i potenziamenti che schifo i potenziamenti ma io ho 10 oh ne ho 11 ah 100 non 10 100 is fij, go adesso c'è seaweed un dr., che sta streamando sui pirati e qui c'è sam league pirata coincidenze melmosa palla di pelo mutante poi che stronzo Bugs Bunny sta facendo i cazzi i suoi Sam non sta facendo niente non puoi mettere il gioco nella categoria retro in che senso veri in che senso Vite6666 grazie mille per il follow mia benvenuto Vite la storia è carina dopo di solito scopre a tv che non ho preso che non ho preso che non ho preso si immagino che ripercorre il film ma tipico ma io in un gioco di Die Hard non l'ho mai non l'ho mai sentito minar prima perché andrebbe nella categoria ma ma che senso categoria non capisco ma aspetti a risaltare devi picchiarlo ma è la parte giusta anche ok poi ci sono le casse hack come qui se non sbaglio mamma mia se me lo li so ricordate vedi uno quante erano ricordatelo come si faceva il giochino così volà eh no era questa perché ero storto dovevo mettermi di qua io va bene no beh ma c'è la la categoria giusta per il suo gioco scusate ah ma aspetta ah quelle categorie ma in realtà non le uso per quelle cose quelle categorie cioè alla fine è sempre variati quello che faccio qualsiasi cosa è variati quindi c'ho sempre è solo la categoria di variati e di twitch italia eh ma non fa molto almeno non in italia non usano molto le categorie va a finire che mi ritrovo più utenti stranieri che altro o no ma l'ho buttato in terra con il calcio via stupido granchio handle with no no Puto per forza portare la casetta, che fan Scusa un attimo ma sto salto è più lungo di questo Sembra ma non è Una cosa che aveva il gioco che ti ho detto Era il colpo rallenti Tipo Max Payne Che bot che ti ho preso Che bot che ti ho preso Ehi Ehi Come faccio Dove ho forza a farlo Va bene Ehi Via Via Voila Ehi Perché è solo a salutare Veri resta con noi Perché te ne vai Ah devo farlo più volte Che tipo se rimanevo a lunga nell'ostrica poi mi inghiottiva Mamma mia cosa mi vado a ricordare Sicuramente è tre volte Ok Mi pare di aver fatto tutto Adesso Marco mi dice No Torna indietro sul ponte nel primo livello Va bene Va bene Noi scuola va bene Non era altro che quando facciamo un'altra cosa si vedeva un'altra cosa Per me è un colpo Un gioco che vi sarebbe piaciuto molto vedere da me era The Punisher ragazzi Purtroppo non ha avuto tanto pubblico E poi ci sarebbe da rifare adesso dobbiamo regalare la fibra Ah ma bastardo è direzionato il colpo Mi ha ingannato Mamma mia Ecco il cazzo Ah è anche rotto questo E-Bugs Mamma mia Piano Perché devo andare piano poi Questo coglione Ma fa così male Eh sì Non lo posso poco colpire Ah no Si stanca Stam Mamma mia Va bene veri Grazie mille allora Grazie per lasciare la view Mi sa che il problema di The Punisher è l'alta monotonia Ma non è vero Ma come ti permetti Ma non sono vero niente C'erano tanti modi per uccidere Ok non ti ricordi C'erano tanti metodi di tortura Non proprio tanti Solo che non si vedeva un cazzo Ok quello era il problema Taddeo alias Elmer Food Per l'occasione Elmer Foodstone Era insieme a Bugs Protagonista di un corto dei sette minuti In un gioco di ruota Chiamato per Fred Isterical Ero a cui ha tratto l'idea Lui come boss preistorico GG Me l'ho so perso Quello Ma quanto belli erano i film Dei Looney Tunes Ragazzi Non quelli Non intendo Space Jam Looney Tunes Back in Action Intendo quelli Quei lunghi metraggi Sempre che erano tutti i cartoni Ma con una trama Ma quanto belli erano Tipo quello di De 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 Della Della lampada Mamma mia O quello dove cacciavano i mostri Mamma mia Quelli erano stupendi Ma sono morti Ma poi non ancora Non ne creano più Notte Oxi Grazie per essere passato Domani se riesco Vengo a vedere Il finale E sei un po' stronzo Però per aver saltato Così tanto Mamma mia Hai quasi buttato 4 Cazzo Senti Qua però me ne servono solo 2 Facciamo prima questo Bugs Non fare pirna Ok BAM Fantastico Noo Mi piaceva dove c'era quello Bugs Bunny E Yosmith Sam Dove ogni volta che perdeva Finiva l'inferno Dove chiedere al diavolo Di rimandarlo su Perché non si scocciano Quello era un episodio normale Mi pare Non era un lungometraggio Sì Oddio Forse si era un lungometraggio Comunque sì Ho visto anche quello Era stupendo Anche perché Yosmith Sam È Il cattivo Più figo Dai Sam è tanta roba Anche se in realtà Il cattivo Più figo Sarà sempre Da feedback Non ci arrivo Perché non ci arrivo Vabbè Potreste la dovrei fare Comunque Metto una qua Tutto 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 Eh no Sei stronzo Però Bugs Che cazzo Come la tiri giù Da lì Sì Così Lo tiri giù Ma no Tutti e due Ma Dio Sali qui Posa Oh Comunque Non so cosa hai fatto Non hai fatto Se non è rimasto A cercare L'infe Di Tadeo No Ma Adesso devo fare Tessera D'altra parte Vabbè A parte che posso Appoggiarlo Faccio così Buonanotte Eh Tanto C'è la forza Di mille uomini Fa tanta fatica A tirarne su Uno Poi ne tira su Tre alla volta GG Mi pare Mi pare di aver fatto Tutto Però adesso Comunque Questo come funzionava Non mi ha visto Proprio Ok Questo me lo ricordavo Ma non gli potevo Tipo Bruciare il culo Ad uno Ti odio Dai Da qui Dove sono venuto Adesso Da lì mi pare Guarda di qua Quando si arrabbia Lui mostra I muscoli Che colpi Da L'incredibile Ult Vedi Si ferma Ma non si stanca Questo Perché è furbo C'è il suo percorso Da fare Questo Ho aperto qui Giusto Si No Ancora Loro barricati Qui Bastardi Ma lascia Rilassi Sono stati bravi Questo no Questo è in ultima Butta giù anche quello Dai Dai Niente Che rottura di coglioni Ste cassette Però Madonna Ogni due Zone Ciao Adri Comunque si dice Ospiti Ma lo so Che sti giochi attirano Ma scherzi Chi è che non viene A vedere sti giochi Però ragazzi Bisogna anche andare avanti Ragazzi Ricordatevi Che la nostalgia È una brutta bestia Bruttissima Cattiva Non c'è niente Qua E perché L'hanno messo Che devo farmo No Devo portà Dai Che palle Ma quanto L'hanno cercato Di allungarlo Sto livello E da bambino Mi piaceva pure Sto livello Uno dei miei giochi Preferiti Lo amano tutti Questo gioco Dimmi Uno che lo odia Dai Dei 16 Qui presenti Chi è che odia Questo gioco Ragazzi Ma qui dove ha Sclerato Zeb Ho visto questa parte Solo perché Me l'hanno linkata Mi hanno detto Guarda qui Zeb Che sclera E io va bene Scleravo qui Perché non riusciva A saltare Quella torcia Sulle tre casse Quelle che sto Prendo adesso Lo vediamo Zeb lo odia Perché È tanto caruccio Che sbagli Voila C'è poi tutto Quello che non si chiama Si no Dai Non esagerate Ragazzi C'era anche Il russo Il parco L'ho già piccato C'è Dead by daylight Che gli piace Per esempio Perché lui Salta in automatico Quando arrivi Sul bordo Tu basta che Gli aumenti Il range Con la X Ah però Capisco che Magari Non è intuitiva Come cosa È giusto Di qua No Cazzo Spero di non aver mancato Qualcosa Però non mi pare Confidenza In caso Sai che dovrei Ricominciarlo Perché Ma io so che era stato Bannato Su Death by Day Poi l'hanno sbannato Perché dovevo Buttarlo sopra I squali Non mi ricordo Ma attaccavano Mentre ero qui Può essere Può essere C'è che ho saltato Una zona Vuoi vedere Cosa faceva Ma no Si fa i cazzi Suoi lo squalo Povero Che poi Poi devo Tirare gli orsi Perché sono Pesce e cani Ragazzi Pesce e cani Ha ha Pesce e cani Perché so che dovrò Ricominciarlo Marco Un motivo per cui Ti puoi prendere Il van No Quello è tipico Ah aspetta Potevo saltare Sull'asta Cazzo Me l'avevo Dimenticato Adesso mi morde Qua si mi prende Bastardo Con il nasone Corri 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 Ma porca Di quella C'era il buco Che palli I livelli Dove bisogna rifarli Quella è una roba Che Odio Degli giochi Della ps1 Perché sono Tutti Così Se vuoi Completare 100% Ma che cazzo Hai fatto Con quell'osso Ma che cazzo Hai fatto Ma vabbè Ma vuoi le sberbe Tu Ma lì cosa c'era Alla fine C'è il punto Che devo abbassare No Non posso Andarla ancora Devo farlo dopo Prima di fare questa Se lo butto Un po' Fanculo Sto osso Ci va lo stesso No L'ho buttato Lì vicino Però E vabbè Non si era nemmeno Incurato Ehi Go Go Qui c'è il buco Ok Vi devo menà Perché mi servono Carote Ragazzi Mi dispiace Vi voglio bene Ma Voglio più bene Le mie carote E non pensate male Un coniglietto Ciao Vicky Ciao Vicky Si è arrivata Perdona Mi si sono andato Online tardi Alla fine Ti avevo promesso Le 23 Ma abbiamo fatto Cazzo Ho sbagliato il tasto Oddio L'ho staccato al volo Ce l'ho fatta lo stesso Avevo detto le 23 Ma alla fine Mi sono perso Perché lo ospite In un'altra live Notte Atipico Ti stancava questo? Questo si Si stanca Dai Sto corre Parecchio Voglio bruciargli Il culo Epa Scappa Tutto Ah lo devo portare A mano Masse Vado prima Sul checkpoint Eh Dai Non voglio rifarmi Gli squari Cazzo Do Dun 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 Madò 700 Mega non bastavano a volte, a volte invece erano mezzi vuoti, come Crash dove riempirono i file vuoti al centro Potete mettere i dati nella parte esterna dove secondo loro hanno più veloci in caricamento Guardate che saltelli in sottofondo del pc del mio compagno, sento Sam che gioca Minchia lo vede anch'io Sam oggi giocare però, devo andare in live perchè ho fatto pausa ieri, dovevo farla oggi da pausa, maledizione Maledetto me che ho scelto la domenica come giorno di pausa E poi maledetto dovrebbe essere anche lui in pausa oggi Marrano Ma Posso vedere quanta roba ho su quanta? Sì, mi mancano 4 carote d'oro e 5 sveglie e 5 casse No ho mancato qualcosa Mamma mia se ce l'ho fatta in tempo Ma lì ti sarà una sveglia Ma che? Ma che? Qua? Qua? Dada? Lo carote d'oro ne mancano pochi in effetti Mamma mia se mi sono visto in acqua Cosa? 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 mamma mia cosa ho fatto 16 ce ne mancano due una dai che ci arrivi lo fai sempre crediamo in te nel cuore tuo niente e va bene non lo posso manco usare per saltarci sopra brutte casse di merda inutile ho capito poso qua madonna e palle no ma perché dite così alla fine è un gioco tripla c'è una nuova ip la nuova ip di xbox ci sta che costa così tre sveglie e un cazzetto due sveglie e un cazzetto dai forse lì c'è ma c'è l'ultima carota uh meglio ancora ok le svegli abbiamo tutte allora perché sicuramente il boss ci dà l'ultima quindi ho mancato una carota e invece ma doh so preso tutto mamma mia so preso tutto mi sfugge qualcosa o sbaglio c'era un timone qui da qualche parte che non ho visto lì dietro forse ma perché non li usa per ah era qua dietro vabbè uccidi lìa idiota che one shot ti torna indietro a portarla a cassa va bene subito a spoilerare cioè che è arrivato per spoilerare sì ma triple A un paio di palle scusami è come dire che poi una corsia si gode 10 mila perché ora sopra c'è un nome famoso ragazzi è il prezzo standard dei giochi 70 euro è Steam che li sconta cioè non capisco di cosa vi lamentate Microsoft non è Steam sappiamo tutti che Steam ha prezzi scontati su qualsiasi cosa fin dall'uscita del gioco non troverai mai un gioco triple A 70 euro su Steam è per quello che Steam è cresciuto ragazzi non ho mai capito le piattaforme qui cosa servivano non sto dicendo solo che non li vale non che mi aspetto che loro si mettano di meno va bene intanto bisogna vederlo scusa quello che era uscito era una beta il gioco completo c'è adesso magari c'è anche una trama che ne sai non si può giudicare il gioco della beta ma dai l'ho colpito perché non muore è la seconda bomba che va a caso cazzo castiglio qui invece c'era il prezzo a 51 euro che poi è per quello che non è uscito su Steam ragazzi perché non lo possono mettere a 70 euro se no eh vabbè ho visto da Lyric magari vi è d'accordo lui ha giocato sia davanti alla beta e l'ha giocato sia davanti alla beta e l'ha giocato via di Lyric non ho capito cioè sai che è d'accordo o pensi che sarà d'accordo sto livello ha rotto i coglioni però è lunghissimo basta madò ma scherziamo cazzo ok che mi ricordavo che erano lunghi livelli perché sono pochi i livelli ma sono veramente lunghissimi arrivo fuoco come funzionava questo questo tipo mi lanciava la bomba e dovevo rilanciargli no tipo faceva un tiro della madonna si ok che cazzata pure sto voce niente lo so Marco non lo rivedrò mai più dai gli rimane pure quella vita lì ma che cheating che era questo gioco che cheating che era cioè gli rimane pure la vita che gli ho tolto prima potremmo almeno resettarlo ogni volta che morivo si vede che è un gioco per bambini mamma mia zoom 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 oh come vai le palle che vanno storte non si capisce dove esplodono guarda si è girata in volo quella palla era palese era pallelese il gioco fa bestemma per altre cose esatto è sicuro non per per le vite dato che su vite infinite le vite dei boss rimane quella di quanto sei morto mi pare l'ultima serie di cannonate era qualcosa di terribile si si ci vediamo merdo i piedi al centro e vabbè io adesso c'è l'ultima scaricata che non sono mai sopravvissuto credo l'ultima scaricata anzi cadendo una volta in acqua ah no è finita era quella va bene troppi pochi danni comunque no ma hai mai visto alla fine è morto alla fine mancava ancora metà vita ed è morto con l'ultima con quella cioè ultima sveglia ragazzuoli preso fantastico perfetto hai completato questo livello fantastico perfetto hai completato questo livello mamma mia il copaccio di bug capone quindi bug al gioco lascia che salvi la tua posizione hai visto marco grazie merlo ciao si ci vediamo merlo qua non posso più far niente cioè in teoria c'è il livello già sbloccato ma questa come si apriva che non mi ricordo ah col timone lì sopra ok ok me lo sciogliono adesso devo prima avere il potenziamento va bene che troll comunque che te la fanno sbloccare subito ma non ci puoi arrivare ecco ecco ma mi direte ma sto tizio qui io l'ho visto tipo in due episodi contati il segue con taslo porti ne stavamo parlando prima adri ho paura che sia qualcosa di di troppo malato da portare perché ricordo che era molto complicato tanto che io non riuscivo più a giocarlo ma ho zerato le le si ok è improponibile giocarlo da solo vedi a che dice così io ho paura se mi dice così vabbè zeb zeb c'ha anche i ricordi di infanzia però maxi maxi che succede oh crashato no perché si è abbassata la finestra non ho capito che è successo ciao vicky grazie mille per essere passata ciao capito era pieno di sti giochi così sto gioco scusa Volevo schiacciare il cane. Dai per ora rompere anche i coglioni. Sono una persona cattiva. Comunque non so cosa è successo alla cutscene ragazzi. Si è abbassato proprio il gioco, la finestra. Quindi non si è vista, non ho capito. Tanto mi pare che possiede tutto lì, giusto? Maxi! Mi vuole picchiare. Ah è vero che si ammazzava così Maxi. Comunque stavo dicendo, io sti cattivi qui li ho visti soltanto di sfuggita in uno o due episodi. Perché li hanno messi nel gioco? Non so così. Ma è già morto? Ma Maxi? Va bene. Va bene. Ehi Maxi dai sveglia! Poi nemmeno cadono in testa, non è vero mai. Ah ma mi stai lanciando ancora le bombe quel tizio. Ma se neanche buttata una sul culo, guarda. Ha sbagliato il lancio forse? Si è buggato tipo. Devo rompere finestre con le bombe? Ah ah. Madò, davvero c'era una roba del genere. Che bellissimo. Fantastico! Devo prendere le cassette, l'ho fatto con le bombe, è uguale? Nooo, le cassette servivano per quella, mi sa. Butta meno un'altra bug capone? Come si chiamava? Oh. Oh. Niente. Puliamo quelle casse come dice buon Marco. Niente, se le è tirate sui piedi di nuovo. E invece, aveva ragione Marco, funziona anche così. Sì, signorina bomba, si può levare? Ok. Eh ma che range hanno queste bombe? Ah no, meno di quanto sembrava. Nooo, nooo, ci sono buggate una dentro l'altra. Fa un culo, tu e ste bombe del cazzo. No, mo devo... Nooo, nooo, ancora ho fatto sta cazzata. Ma non ci arrivo lo stesso comunque, manco col tuffo, secondo me. Oh no, col tuffo sì. Dai che l'hai presa bugiardo, tu un coniglio, vai! Oh. Che parto sta parte? Eh apriti. Ma che è già scappato? Oh, ma che è? Ma strunzo? Ci sono i gangster dentro le piante ragazzi, guarda. E' caduto addosso la libreria però, non vale così, è da cattivi. I giochi di parole quelli belli, minchia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Voilà. Questo è molto diverso come livello dagli altri, eh. Ma se io mi porto le casse? Così. Mi porto le casse. Come souvenir. Non ho trovato soldi quindi mi rubo le casse. l'ho fatta la rotolata su tutti i vasi, eh. comunque l'ho fatta non lo posso colpire questo ma c'è la carota viola gialla dipinta ora me lo ricordo che bello che era sto gioco ragazzi mamma mia non è troppo tardi non bello, non prendi la porta non è troppo tardi non è troppo tardi non è troppo tardi la ricordo di logica c'è una bomba anche qui, no? ma li ho uccisi tutti? non l'ho notato classici meccanismi mafioi sparare nascosti dalle piante e tirare libri in testa e nascondersi dietro le porte per morire per colpa della bomba poi dipendere dei ramizzi e mettere le sue porte chiude fatto, fatto, fatto beh c'era un manuale della CIA dove diceva un metodo per non dare nell'occhio e eliminare gente scomoda scagliare una macchina da scrivere del secondo che sappiamo diceva anche il modello più usato all'epoca per dare meno nell'occhio e farlo passare in un incidente ma what the fuck? ma manca... manca una bomba, oh! vaffanculo marco, manca una bomba perché... ci hanno ingannati marco c'è una bomba da queste parti aaaaah ok e vabbè e allora dimmelo entro nella stanza centrale ho trovato, ho trovato marco ma tu ci giochi ancora sto gioco dire la verità vabbè che sei marco psx ita quindi ma quanto siete contenti che vi sto riportando giochi in quell'emulatore ragazzi mamma mia dopo fu 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 15 dopo the evil within 2 the evil within 1 dark soul 3 quanto vi mancava un bel gioco della ps1 barra ps2 urrg ebbè che vi sto anche portando con brader 2 il pomeriggio però il pomeriggio c'è tutt'altra utenza perchè di dark soul non mi lamenta ma non ho detto che vi lamentate è tornata Jayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bollà? non ho detto che ti lamenti eh comunque dobbiamo c'è comunque se guardate sotto ci sono i giochi in corso che sono i giochi che faremo ho messo Bugs Bunny che c'è già da tre giorni, scommetto che nessuno di voi l'ha notato che avevo già scritto il nome del gioco di oggi ho detto vediamo se c'è qualcuno che magari è furbacchione che va a vedere la lista dei giochi in corso per vedere il gioco che farò oggi nessuno l'ha fatto, bravi così non vi siete rovinati la sorpresa ovviamente io sto stipendio della PS1 ovvio, ovvio vediamo se prima dei 23 anni riuscirò a finire a finire la fine di questo non intendevo quello, dicevo che sono contento se si gioca un Souls allora stavo dicendo se guardate sotto c'è un Souls in teoria c'è Nio in corso faremo i DLC faremo i DLC di Nio che non ho fatto quando abbiamo portato il gioco oppure questo con la bomba devo fare no, lo picchio e basta che cagone che era questo mamma mia se l'ho messa perfetta ah vedere la fine di questo gioco non hai mai visto la fine di questo gioco qual'era la fine di questo gioco? non la ricordo manco io mi ricordo benissimo l'ultimo livello sbloccabile mamma mia che livellaccio con la gara lì che cazzo è? con i monopattini ma no che schifo quanto ho odiato quel livello quante bestemmie ho finito al cento per cento sto gioco è colpa di quel livello dovrebbe aver fatto tutto dai spoiler se niente alla fine torno al presente gg andava a pismo bitch alla fine non finisci in una 24 ore in blind run questo bug se vabbè 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 esagerato esagerato mi ripeto che non l'ho mai fiata piccolina né questa né nemmeno quello con ta quello con ta l'ho visto sull'inizio io già la prima zona l'ho mollato ma io ve lo ripeto ce l'avevo su pc ragazzi giocarci con mouse e tastiera fu un trauma lo mollai subito preso ok ci mancano 3 carote e solo 2 sveglie sto livello è già finito io l'ho detto che quello li valeva valeva troppo cioè era troppo lungo vabbè ma è ovvio che finiva così scusate un attimo eh che belli che erano i miei nemici martello che serviva fantastico oddio ma quello si risveglia questo si spostava no bastardo ok ma quell'allarme di prima ragazzi è scattato perché sto idiota si è messo a fare l'animazione della sveglia ma io non l'ho presa la chiama ok dovevo per forza penso che dovevo per forza però ormai abbiamo aprito la porta secondo l'ostantanio sono fermato agli egizi e poco dopo una zona con l'acqua che mi sbagli mi piaceva davvero troppo e mi devi dirmi anche il come oggi che reti avrebbe un gioco dove qualcuno spara il protagonista una pistolettata non lo so niente no oddio ma c'è maxi maxi così si fa i giretti lui allora se non sbaglio questo qui si spostava davvero avevo ragione quindi questo si sposta solo così ma scusa questa qui si sposta di più allora e questo immagino si rompa così no ah il martello giusto 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 quindi non ho capito perché ho dovuto fa tutto questo non ho capito ah maxi guarda qui maxi 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 qui maxi bravissimo oh ma non è rimasto lì e si è buggato maxi doveva svenire dai qua c'è un'altra speriamo bene eh no non triggerarla tu però ah bastava aspettare che si stancasse poi lo picchiamo ce l'ho rimasto bloccato una vita qui ora che mi ricordo bene perché non capivo cosa dovevo fare manca una carota e una sveglia mi sa che la carota l'abbiamo persa sono abbastanza sicuro che la carota l'abbiamo persa merda ma l'ho messo come peso qualche piedistallo ma non serve una minchia Marco devo andare avanti per di là o devo farlo per forza per sbloccare l'ultima carota lo rimetto dove di prima allora forse se si aprono tutte e quattro le porte succede qualcosa non lo so rimettiamolo qua no ho cambiato un cazzo no lo devo far per forza per andare avanti devo saltare sul cosa che abbiamo appena visto su questo ragazzi per la carota volevo capire come però non mi pare che sia più niente 4 dei vasi all'inizio livello non li hai colpiti dici che sui va vabbè dai se sui basi basta rifare l'inizio del livello ci mettiamo due secondi no non credo me la dia il boss troppo strano oppure forse maxi me la da se maxi me la da l'altro mi dà la sveglia ah io devo schiacciarlo mentre salto è vero mi ho scoperto adesso mi sa di si che la carota mi dava dei vasi per quello ho continuato a colpirli prima no è per forza da dietro devo colpirlo mi ha smitragliato maxi fanculo il vento va come l'ha salvato ma non l'ho colpito mai bugiardo di un maxi fanculo dai mi ha perduto di vista per me ora che arriva qui è stanco no e invece si dai 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 si gioca dal sopra a dormire alle 22 lol non c'è più dal sopra è finita la settimana fa ragazzi tranquilli dai ostia ragazzuoni voglio prendere quella carota che brutta scena fantastico ok erano i vasi allora non avete sonno no ahahah 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 si nooo lo sooo lo sooo perdonami The Great Escape Lascia che salvi la tua posizione Toh Grazie Merlo Ciao Tei mona, Darsol è finita una settimana fa Ostrega Andiamo a piastacarota Dove giocare anche a DS1 Dopo Neo c'è DS1 No, spero, non l'abbiamo vista prima Adesso le faccio rivedere Non pensavo ci potessi ritriggerare Ma zitto, lo so, chi ha lasciato roba Mamma mia Merlo No, vattene Ciao Sì, ci vediamo Merlo Stavo per schipparlo di nuovo Ok, capo Ah, ok Abbiamo perso solo la porta che si chiudeva Ricorla, vai Boh, rifacciamo qui Uno Ok No, devo anche ripiare la chiave 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 No, non posso farli Ma per sbaglio ho tirato la sua palla in quel buco E lui le è corto dietro Ah ragazzi, vi ricordo che ci sono ancora i suoni Mi sento così Abbiamo fissato tutti i suoni Quelli che erano bassi adesso sono tutti alti Adesso ci sono i punti per usare i suoni Per vedere quanti punti avete dovete scrivere Punto esclamativo Brodino Scrivete punto esclamativo Brodino Vedrete i punti che avete Ci sono alcuni Cioè Quello che costa di più mi pare sia bruciatutto Perché è troppo lungo ragazzi Bruciatutto Guarda che per bruciatutto Servono 40 punti Tipo Sono quasi tutti solo a due punti Tranne quelli più lunghi e molesti Per evitarne l'abuso Eccola qui Era su questa Cazzo Fottuta carota Come non parte nulla Ah eh Spop è partito Hai messo lo spazio prima del punto esclamativo forse Lascia che salvi la tua posizione Perché Spop è partito dagli altri no? Grazie Merlo Ciao Sì Ci vediamo Merlo Accaia più punti di dio Non butto via i miei Brodini Per tricare i tuoi stupidi suoni E allora te li tolgo Ti a zero i Brodini Vaffanculo Visto che dici così Te li a zero Non c'è se è un livello questo Un bidone Va bene Vado c'erano livelli che si aprivano con le carote addirittura No ma questo me lo ricordo Questo era bel brutto sto livello Lo ricordo era bel brutto Però dei pidoni non me lo ricordo Sinceramente Ma subito su quel suono lì sono andati Maledetti Devi stare molto attento invece Ok Devi stare molto attento A non insultare i miei suoni Fatti con tanto amore Quindi Di qui Jay ha 66 ore Marco ne ha 34 Ma una lista È sotto il canale Spop Basta che scrolli C'è la lista dei suoni È subito dopo Youtube mi pare È subito dopo La targhetta di Youtube Ho chiesto a destra Di farmi la targhetta Il più velocemente possibile Per i suoni Dobbiamo proprio mettere Sebastian Cibi Che raccoglie il brodino Con la siringa Appena Estina la fa Ragazzi la metto Facciamo anche la targhetta Con la lista dei suoni E allora so cazzi Toys Pop Ma scusa un attimo Non mi si era aperto un livello Su questo qui Ma non era qui il livello Che si è aperto Era la grande fuga Era qua no? Ah lì sopra E' per il sindaco Va bene No ok E' solo per le partner Quelle Minchia Gli anni 30 Prima della guerra Nella grande guerra Guarda 2 Intendo Beppe sindaco Mi pare Ne valga De 10 Questi oggetti Per ottenere Un simbolo orologio I brodini Sono solo per i suoni Ok Quindi che cazzo Non dovresti usarvi Scusa Che cattivo Il ragnetto Vaffanculo Ma che cazzo Madonna Madonna Vaffanculo Dove l'ho calciato via Cos'è il podio? Che cazzo è il podio? Ma in realtà Tutti i comandi Del brodino Sono usciti da soli Io solo Ho scelto il nome Dei punti Tutti i comandi C'erano già Quindi non so Manco come mettere Il tuo podio Volla È arrivato a mille Brodini È un bruno sconto Per la maso Va bene Beppe sindaco Beppe sindaco Va bene Swampy Devo cercare Di non farmi colpire Perché se no Sti cosi Cominciano a Striscia Avunca Non rischio A schiacciarli Dopo Ok Abbiamo imparato Che queste Vanno sempre colpite Non me lo ricordo Questo livello Ragazzi Dopo 0 Mi ricordo I ragni Ma non mi ricordo Il livello Trolla tutto Eccolo di nuovo Madonna Maxi Che palle Che eri E scappa Stronzo Uno Pian piano Mi fa vedere che ha più brodini di altri Ma tanto ha più ore di altri È quello lì che lo distinguerà Ha più ore di tutti Mi sa Kaya Forse Arancino Ne ha di più Però Arancino No Arancino Non c'era Quando c'era il bot Arancino Proprio quando ho messo il bot Ha smesso di venire Quindi probabilmente no Perché in teoria Conta soltanto le ore Da quando ho messo il bot Ragazzi Non so già che queste Crollano Col cazzo Come mi ricordo Sto livello Lo sto facendo a memoria Però non me lo ricordo Lo ricordo Ma non me lo ricordo Ero convinto Che fosse integrato Sul livello Che abbiamo già fatto Ma se fosse un livello Unico Invece Cazzo Tutto perché non ha fatto Quella merda Con le orecchie Cos'è sta vasca Ogni volta Mi ci perdo a guardarla Va bene Preso Memoria muscolare Esatto Marta Esatto Ma sta quindicene Magari No Qua c'è la roba Da fare con le molle Che schifo E io queste Me le cucco Lo stesso Va fanculo Ecco Fanculo Adol super salto Però quella Non ci posso arrivare Purtroppo Lì mi serve davvero Super salto Che fastidio Ecco Meglio così Facciamo prima No Perché ho fatto Il checkpoint qui Maledetto Me Non ci arriva più Non posso Tornare indietro Cazzo Ho per forza A farlo Non ci arriva Non ci arriva Ragazzi Porta una cut file Fate pure Ragazzi Fate pure Tranquilli Tranquilli Non c'è problema Potete farlo Oh Madonna Certi salti Però Perché ne fai uno Dietro l'altro Può essere Che fosse per quello Probabile Che fosse per quello Poi ricordatevi Che i brodini Li posso dare Anch'io Ragazzi Non si farmano Solo con le ore Ricordatevi Anche questo Ma basta Paciocoso Non è un cazzo Di complimento Il cazzo Di complimento È paciocoso Ragazzi Anzi Paciocone Neanche paciocoso Dai Basta Voglio il sondaggio Adesso Secondo voi Paciocone È un complimento Basta Bisogna metterci Un punto Su questa storia Non vedo Non vedo Il contacarote Normali Quando arrivano Avanti Al mondo La retta Della pietra È riscaltarlo È 64 Adesso Picl'altro Se lo metto Di là Si Si coprono Le sveglie Mi pare Niente Non si può Fa' un cazzo Su sto livello Insomma Andiamo avanti E basta Dai No Mai gira il cazzo Quando è così Si Via quella sveglia Devo imparare a suonare Ho capito Ma che stronzata Però Probabilmente Manco ci posso andare Quindi Eh no No Spop proprio No Spop proprio Niente Brodini Spop proprio Gli tolgo Gli do ad altri Prendo i suoi Gli do ad altri Ma non ho intenzione Di finire lo stano Ma che ha messo Questa notizia In giro Ragazzi Siete pazzi No Live normale Oggi Su Per noi Paciocone Significa che Se come Papapu Papu Di crash Oh Anch'io Ho pensato a quello Pensate No Hai scritto Paciocone Cioè Li hai usati entrambi In realtà Cioè Paciocone Paciocone Proprio brutto Paciocone Proprio brutto Quelli Manco Li riprendo Questo L'avevo Buggato Non so Una volta Vabbè Vaffanculo La X Mi ferma Forse Forse con i mattoni L'avevo Buggato Tipo Niente Faccio Cosa Mi dà fastidio Lo stesso Cioè Più È più Affettuoso Però Dà comunque Che fastidio Aia Aia Ucciso Da un ragno Di merda Guardalo Mamma mia Non lo schiaccia Schiaccia Con il ragno Di merda Lascialo Lascialo Sta Buggs Lascialo Sta Andiamo Dio Non credo Si prendesse Così Come si Prende Quella Tu Chi Sei L'interno Vuol dire Chi è Bonario Pacifico Nell'animo Nell'aspetto Non stare All'aria Pacioccona Quindi Non so Sì Ma lei Non intendeva Quello Intendeva Proprio Nel senso Che Sono Grasso Era Cattiva J Cattiva Mi dà Del grasso Non ce la faccio Ma kokosai Dai È troppo Lontano Non si fa Così Ora Voglio capire Come si fa Perché Non ci sono Potenziamenti Minchia Ricordo che avevo Un'amica Dell'elementare Che mi parlava Di Che faceva Questo gioco What the fuck Cioè Lei aveva La playstation Ma non Aveva La memory card Quindi Lei Arrivava Tipo Sempre al terzo Livello Giocandoci Tutto In un giorno Arrivava Al terzo Livello Che abbiamo Fatto Prima E basta Lo rifaceva In eterno Tipo loop Tipo loop Infinito Perché Non Aveva Una memory card Fantastico Non vado Lontano L'erica Mi blocca Vedi Mi blocca Il salto È solo Per l'atterraggio Più Più Sicuro Ma non Fa Planata Quello si chiama Autismo Non era Autistica È colpa Dei suoi genitori Ragazzi Probabilmente Non sapevano Cos'era Una memory card Non sapeva Che La pistachio Aveva bisogno Di una memory card E lei Poverina Ha fatto tutta L'infanzia Così Giocando I giochi Sempre Inizio Dei giochi Senza Mai Dalla Mamma Minchia Una volta Ero così Tentato Da darle Una Delle Mie Però No Però No Ma lo Prendiamo Lo stesso Alla fine Sto Cosa Vai Siamo Qua Magari Mi Ola Io per legge Avrei messo i salvaggi Con password Magari lo fa anche ora A 26 anni No Non credo giocare più i videogiochi Cioè la PS1 era un'altra cosa La PS1 ce l'avevano tutti La PS1 ce l'avevano tutti Quante carotte normali hai Le sto guardando Marco non ti preoccupare 75 Comunque Un altro boss Sono maxi Ah Quest'orda ci affronta lui Quindi una sveglia me la da lui Quindi Due sveglia Una con le casse Una l'abbiamo vista prima Una l'abbiamo vista prima Questa come si faceva Dovevo tipo farlo cadere No Non mi ricordo come si faceva questo E' quello solo che Ecco Lo baggavo andando sempre sulle travi Io Non la vedo più ragazzi E' elementari Basta Cazzo ne so di che fa della sua vita adesso Posso solo dirvi che è diventata gnocca Quello di sicuro Mi sa che fa pure la moderna Niente Beh bravo coglione Ma poi lui scammina nel vuoto Mi fa morire maxi È troppo brutto Cazzo Non capisco se quello è un cappello O sono i capelli Mi sa che è un cappello E no vedi Sai lontano anche lui Quando sta per esplodere Ma che cazzo E non tieni contatti con una modella Ma è fidanzata da 10 anni Questo lo so solo grazie a Facebook Non per altro Oddio forse si è lasciata Marco come si fa questo boss di merda Prova a lanciargli lì indietro le bombe Ma si sposta subito Mi viene subito incontro Non ho tempo per lanciargli Ma invece si Perché si è messo in posa Solo che ho sparato a cazzo LOL Ah ma devo buttaglierla Quando sta per esplodere Ok 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 Ho avuto il flash adesso Ho avuto il flash adesso Guarda maxi Si è fatto un uomo Si è fatto Ma che bella lo spider Che si è inventato maxi Va bene Va bene maxi Ma era l'altro che si chiama bug capone Non lui Non lui Non lui Puttana Non volevo farlo esplodere subito Però Vi prego Clippate quel bug Dovevo mandarlo a kenn Assolutamente Dai ha fatto male a me Non a lui Ragazzi è cattivissimo maxi Ride pure di noi Non con noi Cosa ho detto La freddura Dov'è E' morto E' morto il lattaio E' stato parzialmente cremato LOL Se le mie compagnie di grassi erano brutti E sono rimasti brutti No no Le mie compagnie di grassi alimentare Erano tutte gnocche Sono divinate tutte gnocche Tranne due e tre Una era uno sgorbio Ma proprio Mamma mia Mamma mia Se gli dici Che sei uno stender famoso Ce li avrai tutti I tuoi piedi Ma che cazzo Vuoi che dica Che non è neanche vero Non è neanche vero Oh così deve fare Volevo buggarlo di nuovo Lo ammetto Volevo buggarlo come prima Cosa fa? Putta Oh Oh E poi ma che mi sta troppo vicino Vabbè è morto Io non so come si faccia Si clipa su madonna Anche i clip sapete fare Ragazzi Vergogna E pensare che se le vostre clip Raggiungessero Totte videoizzazioni Avreste un'immaginina Vicino al nickname Che dice che siete I miglior clipatori del canale Voi non vi interessa Non vi interessa Mi fate male ragazzi Mi fate male Uuuuuh il medievo Lascia che salvi la tua posizione Andiamo a vedere Eeeh Duffy Duck Ragazzi Grazie Merlo Ciao Sì Ci vediamo Merlo Quello è probabile No ma una carota Mi sa che l'ho pure vista Mi sa che era sempre dove Della Della sveglia Hanno potuto prendere E vabbè dai Ricordiamoci Serve il piano E anche il super salto Boh Gua il medievo Credo che il gioco È ben calcolato Per farti sbloccare Un livello Pena ne finisci uno Mica male No Sì Mamma mia Duffy Forse non era Il primo livello Però Duffy Quante carotte ho? 78 Minchia La gara con gli sci Mi è venuta in mente Adesso Era tipo qua sotto Eccola lì Mamma mia Però erano belli I livelli del medievo Però mi facevano inquietudine Che quei cosi Facevano quel rumore 15 sveglie ragazzi 15 sveglie Un coniglio Ehi Che stai cucinando Zia 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 bello che il cattivo di questo del medioevo in teoria è la strega però mi pare che non ci siano mai boss fight con la strega cioè la puoi incontrare ma è tipo casualissima non è la vera antagonista c'è solo da fidacca per i coglioni nel medioevo raccogli dieci di questi oggetti per ottenere un simbolo orologio perché su questo livello me l'ha detto negli altri no? non l'ho cagato io negli altri livelli? mamma mia sto livello che bel brutto mi sa che era qui da fidacca che rubava le carote d'oro comunque vorrei stare amata a tanti alle strega tanto ci può tornare indietro quando voglio no? no? si? demenza senile di merda eccolo lì guardalo guardalo e ricordo io la prima volta che ho rottito Duffy Duck perché finalmente era apparso in un gioco e poi te lo presentano così ecco era lui guardalo che ruba le carote mamma mia Duffy vieni giù bastardo che brutto però che è così un personaggio proprio messo a casa da potevano dargli un po' di più spessore lasci a stare steve vabbè non so se niente di merda mi ha fatto morire però qua c'era la strega mi pare questo me lo ricordavo tutto lo tutto merlino muro? ma che davvero? merlo? che fai qui? che puttana la beccherò merlo non ti preoccupare grazie merlo fai cadere le cose ok però era creepy il medioevo devo essere sincero ok sono a 99 carote comunque ecco una devo tipo avvicinarmi di soppiazzo no ok ecco me è stato abbastanza facile direi è stato abbastanza facile non è stata molto combattiva tieni merlo no merlo ho sbagliato tutto strepitoso mi hai riportato il mio magico libro di cucina ora vediamo che cosa posso fare per te dici tutto merlo ti posso insegnare un trucco magico se vuoi fantastico oh no allora fai attenzione coniglio si oh 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 off ora potrai andare un livello superiore grande merlo però mi serve anche quella per sonale il cazzo Vabbè possiamo intanto Fare il livello Quello dei pirati Ora che abbiamo Ulli Ulli Ulla Hop Ma c'è una cosa da d'oro lì Guardala Che avevo vista Va bene streghetta E sta zitta Volevo vedere qua Voilà Poi che cazzo è che dice Questa è la mazza Non capisco Ciao Ken Calcio sotto Calcio sotto Ken Calcio sotto Perché c'era lui Che faceva così Che recuperava vita Quindi mi sono messo a urlare Per quello Ken Mi hai preso il panico Per quello Questa è la mazza Che vuol dire Cosa vuol dire Le abbiamo prese tutte Yes Come sei bello Kenino Allora Hai rivisto tutta la live Come sono andato Ken Come sono andato Come sono andato A indicarti le cose Sono stato bravo Ken Sono stato bravo Perché quella sta al centro Cioè io ho beccato L'unico spazietto Va bene La mazza è tipo di scopa Ma idea di cosa mi hai svelato Lo sai da quanti anni Era che me lo chiedevo Ora la mia vita Non ha più senso Presa Guarda Allora No 8 Qua devi liberare i barilli da sopra Adesso ci arrivo Adesso ci arrivo Ah, è vero, perché... Alt' il nome del re! Minchia, Ken, poco fa ti sei perso un bug di quelli bellissimi. Ma erano fortissimi, questi cosi, se non ricordo male. Eh, infatti erano tipo invincibili e ti martellavano pure se passavi per sottoterra. Ecco. Vero, 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 come vi riporta. Alt' il nome del re! E vattene. Non hanno clippato, non so capaci, Ken, bisogna insegnargli tutto a questi qui, tutto. Eh, no, vabbè, ma questo qui è spaffinta di dormire. Eh, no, vabbè, ma questo qui è spaffinta di dormire. Alt' il nome del re! Alt' il nome del re! Questo! E invece... E invece... Ah, posso anche saltare sulla panza, è vero. Ok. Oddio, si rialza! Veloce! Va bene, Jack, però rimani cattivo. Non c'ho roba della musica. La musica... Le palle... Merlo che mi insegna i potenziamenti sbagliati... Chi è sta roba? Ma tra l'altro è un personaggio importante dei Looney Toons questo. Cioè, è uno dei personaggi principali. Non è un lobo messo a cazzo. Cioè, è davvero un personaggio questo. Bravo Marco, diglielo che sta sempre a chiedere soldi per PC. Basta Jay, risparmia! Ce la puoi fare? Risparmia Solvini per coprire il PC. Va bene? Ah... Anche perché rimane bloccato lì, sai che brutto poi. Io a me posso aprirci solo tanto per la... Per la schifezza dorata qui. Quello? Va, c'è pure il ruolo del salto! Non posso! Si, ci vediamo, merlo. Va, si può pure andare lì sopra. Vabbè, finiamo tutta l'area che c'era lì prima, dai. Ah, ho capito Jay. Allora è dura. Boh, le casse le abbiamo buttate? No. Sono ritornate. Innova del re! Vicky Baza, la prima apparizione del personaggio che si è iniziato all'altadone nel cartone, ma sbaglia il condor. Diretto da... Vedi, vedi, vedi. Vedi, è un personaggio importante il condor. Non è un... Un coso messo lì per... Per metterlo. Alti il nome del re! Questo è lo becco da qui, vuoi vedere? Lo sapevo io! Ho sbaglio il saltino a due centimetri e poi faccio quelli epici. Sono 37 carotte d'oro! Cazzo! Io dubito che le casse si possano fare tutte subito, allora. Ne ho dubito abbastanza. Mi siamo andati. Non erano cadute tre casse? Ecco, appunto. Infa devo fare prima qualcosa. Come ne apro quella? Perché la carota ha in mano quando fa sta cosa, poi? Boh, non vedo leve da qui. Notte spopa! Spopa! Tanto questo si sveglia. Oh no! No! Vabbè, ma io devo svegliarlo, sennò non lo posso uccidere. Oh no! No! Vabbè, ma io devo svegliarlo, sennò non lo posso uccidere. Oh, che asma che hai però! Sarà una sveglia qui, la chiave. Ecco la sveglia. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Fantastico! Fantastico! Chi è che va? Chi è che va? Spop! Dato! Già salutato! Comunque sono un povero di merda, altrimenti ti ho già fatto la sub. Non ti preoccupare, swampiii! E' come se l'avessi fatta, dicendo così. Non ti preoccupare. Pure io attualmente non riesco a far sabba nessuno perché sono veramente accorto di liquido. Fantastico! Questa forse apre di sotto. Mamma mia! Ma mi sta menando. Che cazzo? Sentivo le botte in sottofondo. Questo fanno fuori c'è nella gara? Si, si, si. Non ho capito. Sono proprio un povero della povertà stessa. Io non ho potuto rinnovare nessuna sub questo mese. A parte quella di Sam perché c'è il Prime. E quindi è gratis. L'unica sub attiva. Ah no, è vero. Ma hanno regalato una sub da Sanji. E' vero. Però non l'ho pagata io quella sub. Mi hanno fatto la donation della sub. Tutte le altre sub che avevo sono tutte scadute e non posso più rinnovarle. E' triste, lo so. E' quella del povero Skid. E' quella del povero Skid. Voilà. Come faccio a salire? Di qua. Allora. Mi pare di aver fatto tutto qui, no? Dovremmo aver finito qui. Lì non si può andare. Da sotto abbiamo fatto. Lì siamo già stati. Sì. Basta. Posso andare. Da King Carlos. Rifacciamo sta cosa. Esatto Jay. Diglielo. Diglielo. Guarda. Preferisco di gran lunga una persona molto attiva in chat che una che mi vuole la sub. Preferisco di gran lunga proprio tanto. Senza nulla togliere a chi fa le sub. Abbiamo tutti. Tranquilli. Non vi sto denigrando. Però se mi date amore in chat sono molto più contento. Che è sto punto di domanda? Eh ho capito che siamo ai campi del re. Guarda lì quanta roba c'è. Bastardo. Bastardo. Ma hanno battuto uno. Non mi ha dato niente. Marco. Mi hanno battuto uno. Non mi ha dato un cazzo. Non ce ne devo battere. Non lo so. E ovviamente chi fa la sub è anche attivo in chat. Ragazzi. Io non dico che non faccio preferenze ragazzi. Io non l'ho mai detto che non faccio preferenze. Non mi danno un cazzo. Questo non esce comunque. Sai che Marco ci ha gabbato ragazzi. Oh. Però non ti hanno aperto un cancello dove usciva un cavaliere da schiacciare. Quale? Dov'è il cancello quel cavaliere? Probabile Marco. Questo non esce più. Questo ci tiene alla vita. Non è stupido. Non è., non èpo dall'è. Non è, non è, non è. Gio. No. dai poveri bambini lasciateli stare io sono uno di loro oggi ragazzi non insultate i bambini sembra easy peasy ci sono i draghi minchia se mi ricordo i versi dei draghi sono quelli e la scala di metal gear easy peasy mi ha preso 5 mi ha preso fanno malissimo ragazzi che soddisfazione mamma mia qualcuno pensa ai bambini comunque secondo me il 50% buono di chi ha fatto questo gioco si è fermata su questo livello perchè questo livello è abbastanza stronzo è abbastanza stronzo io ci sono stato parecchio su sto livello me lo ricordo vorrei mettere lo stesso effetto anche su di me invece di notte non riesco a dormire cazzo io lì con il fatto che non c'era lo streaming sono stato dormire alle 3 quindi sono dormito alle 5 e mezza e porca puttana e porca puttana ciao ciao hey eee Azzzzzzzz Il simbolo del re Oddio queste sono le fiammate cattile che mi ricordavo io Ragazzi ho avuto un flash brutissimo Ho avuto un flash brutissimo ma non potete immaginarlo Mi sono ricordato che da bambino Mentre facevo questo livello In una delle tante volte che ho fatto questo livello Mia madre aveva appena riportato a casa La pagella Su questo punto E mi spense la Playstation dei cattiveria Perché era incazzatissima Porca puttana Cosa mi viene in mente no Esci dalla mia testa E non ho capito di cos'era la clip Che Ma do Si era pesante la pagella Non ho capito cos'era la clip Solo in quel lato della clip non ho capito cos'era Se vi dicevi che questo livello viene in parte Dal cavaliere Bugs Ignite l'Ignite di Bars Un film di un gioco diretto da Freddy Dove c'era Yosemite Sam e il drago raffreddato Sputtafuoco E' vero me lo ricordo Me lo ricordo quel cartone Poi a mezzanotte mi sono svegliato E sono connetta di nuovo Tutta la notte Non ricordo neanche se sono passato da qualcuno Qui su Twitch Controlessi qualche cappello bianco LOL Ah il bug TVB Ma davvero sono andato a cercare quella parte Che non sei pazzo Sei pazzo TVB TVB Aia Minchia sento ancora mia madre incazzata per la pagella Io che giocavo tutto tranquillo su sto livello L'entra l'ha incazzata Che cazzo fai a squadra? No vabbè non dice così Oddio lag Ok se ripreso Mamma mia sto livello comunque davvero eh E' qualcosa di veramente cattivo E' lungo Cioè se fai 100% sto livello Penso che hai fatto 50% del gioco Cazzo 15 sveglie C'è bisogno di tutti i potenziamenti per farlo Abbiamo pure visto un potenziamento nuovo prima Quello del ventilatore Che cazzo era quello del ventilatore? Merda Lì non ci arriverò Ma aperta che se mi brucio il culo ci arrivo Eh dai Senza fa 2000 salti Taglio Si fa male di 6 cuo Vondi ma poi passa Notte che nino Comunque era bellissimo quel bug Niente facciamo soffrire bugs poverino Mi chiedo tre sveglie regalate queste comunque Madonna ZEB ha tipo fatto alt f4 violento su sto gioco Ma dov'è che l'ha fatto? Che diverno? Non è difficile questo gioco Quattro tasti da memorizzare Oddio questi qui mi danno le carote Gli ho ammazzati tutti adesso? Si Ok I draghi non li potevo uccidere Quindi non c'è altro Ah Ah Vedete ho lasciato questa carotina appunto Perché sapevo che sarei caduto Me lo sentivo dentro Non mi sarebbe servita quella carota Mi ha fatto tipo al quarto Non lo ricordo precisamente No scherziamo adesso Cosa c'entrano Cosa c'entrano qui con ZEB? Facciamo cose totalmente diverse ragazzi Per puro caso A volte facciamo gli stessi giochi PSX Ma è per puro caso Questa è la fine del livello Me lo ricordo Ma erano dei boss questi Tipo Si Madonna Mi sono anche ricordato che erano dei boss Pensa a voi Colpa del trauma della pagella Se lo ricordo così bene Sto livello Nooo L'ho beccato sulla panza Dai Paura Peppe sindaco Peppe sindaco Peppe sindaco Ma Tutta sta vita Quell'altro Ma che vita del primo Si vabbè Ma se si bugga Ecco Peppe sindaco Peppe sindaco Oddio Non stavo guardando Che stavo facendo così Sto guardando le chat Dio Bastardo Uscito senza guardarlo Poveraccio Basta Il picchio No scherzo Potete fare quello che volete Con i vostri brodini Ragazzi Quindi Ci mancavano 3 casse 6 sveglie 88 carote Pottana Questo è il massimo Che potevo fare Senza potenziamenti Ottimo Ma hai lasciato degli oggetti Alle tue spalle Lascia che salvi la tua posizione Ho capito Merlo Sei stronzo E tu dato il libro Tu mi insegni solo un incantesimo Insegnameli tutti subito Dove cazzo è la bocca di quest'uomo Non si capisce che non si capisce come è fatto Non si capisce come è fatto Basta Sempre gente deforme Cos'è che si è aperto Che non ho visto Dammi va Qua ce ne vogliono Non è uno scherzo 250 carote d'oro Non ho visto dove si è aperto Ragazzi Io questi livelli Non mi ricordo assolutamente Cioè appena li vedrò Me li ricorderò Ma così a naso Non saprei proprio Dirvi che c'è In questi livelli Soltanto questo qui sotto Perché mi ricordo Che qui c'era lo sci Perché mi faceva Inbestialire lo sci Si è aperto un livello All'isola Ok Dobbiamo farne due Tempo dei pirati Alcuni livelli sono singole boss fight Quello è vero Questa corta d'oro Potrà essere tua Ah vabbè Quando Sam conobbe Banni È un boss Questo Ah Belli No Quante volte che l'ho rifatto Sto livello Quante volte che l'ho rifatto Quante volte che l'ho rifatto Quanto bello Sto matò Ricordo Lo rifacevo 850.000 volte Mamma mia Questa dovevo sparare io Ah Capolavoro Sto livello Ragazzi Oddio no Che bello è Col soffietto Ma come è una boss fight Tristina Spettacolo Smettila Queste sono le vere Battaglie tra pirati Non quelle che sta facendo Sam Adesso Io ho ancora una palla di cannone Dentro Ben È tornata Veri Mi sono svegliato a caso Quindi buonanotte LOL Ciao Veri Che questa qui Dovevo colpirla Tipo all'ultimo secondo Per farla andare più veloce Così gli davo più velocità Merda Ho sperato troppo No Non soffiare Bastardo Emo Valentissima Vai Vado Vante volte Ho fatto Sto livello Addio Sam Addio Ma io non ho avuto le mie C'erano due carote dorate O sbaglio ragazzi? Che vuol dire? Come ho gettato le mie spalle? No 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 Lascia che salvi la tua posizione Quanto odiavo i livelli dei del futuro Grazie Merlo Ciao No Merlo un cazzo No no Un cazzo Come si pigliava quelle due carote? Una carota d'oro mancato Ah forse per cui ho lasciato che Che una delle barchette mi venisse addosso Mi sa dovevo respingerle tutte Allora non le levo Eh sì sì Dovevo farle esplodere tutte contro di lui Invece una mi ha esplosato addosso Purtroppo Ok Dai rifacciamo Ero Yro vai eccola ce l'hanno data basta via non so perché ce l'hanno data prima stavolta boh forse ho beccato mi sono preso l'unica cassa che aveva la carota d'oro probabilmente ragazzi per questo non l'abbiamo presa fantastico perfetto hai completato questo livello lascia che salvi la tua posizione eh gg grazie merlo ciao si ci vediamo merlo addio che bello mamma mia sto gioco sono randomi che sfiga sei già al 32% peccato il gioco si abbia cominciato va bene va bene subito a deprimermi Marco subito 4 sveglie 9 carote d'oro uh me lo ricordo anche questo non ricordo se si arrivano potenzialmente oltre al super salto e se uno se lo dimentica come fa dico easy twitch ben e comunque quando gli faccio complimenti non li legge mai abbiamo la stessa malattia di chennino con pia non è vero non mi fai mai complimenti non ci entramo no 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 ma che è visibile oh dio timone e no come faccio a portarlo lì no no non devo far per prima questo mi sa che devo tipo far alzare delle pietre dalla lava per passare può essere posso provare un saw ma provate tutti quelli che volete ragazzi li ho messi per un motivo non vi preoccupate potete farli in qualsiasi momento non vi preoccupate tranne in qualche cazzo importante se li usate mi sembra importante di picchio dovevo boh storcia ma cosa si così proprio ma non ci arriverò mai di sopra come faccio stanno arrivando vai e brucia tutto che ne facciamo del fiero lo sapevo che avreste provato quello che è il recato ora ti farò vedere come sistemiamo le spie finisci con piacere stanno arrivando vai e brucia tutto come forza di rompere 3 di notte ma non mi fanno prendere colpi non so così alti cioè al massimo mi fanno prendere un colpo in un gioco horror ragazzi perché magari li sono teso però se gioco a sti giochi tranquilli non mi faccio prendere era sprovvista ok questo sembra easy lui a che serve? serve per il nostro piano quello scorpione? mi sembra facile questo ma levati dai coglioni e vattene mamma mia se ti rovino davanti agli orti va bene si infatti si sta con sto livello vado e brucio tutto ma quanto tempo mi hanno dato per la torcia ma non ce n'era bisogno l'ho bruciato con la torcia proprio delicatamente e e e No, devo appoggiarlo, non lanciarlo, è solo che c'era questo qui davanti. Voila, ora posso andare a test. Minchia però, mi stanno per uccidere, eh? Non sono mai morto per danni da vita, sempre per cadute basta. Cadute in acqua, magari. Allora, il cazzetto, eh? Dov'è? Ah, e minchia, non appare finché non mi avvicino. Boh. E sono il terrore di Pier, e gli regalo un Ciro ogni volta che è vicino alla morte su cui così parte là. Sì sì sì, l'ho notato, sei cattivissima con Pier, sei cattivissima, povero Pier. Il Ciro pure addio, momenti di gloria. L'ho fatto in nero, poverino. No, basta Marco, no. Basta. Qua, sempre a criticare i giochi nuovi. Anche i giochi vecchi vanno criticati. Basta dire che... So cose accettate perché sono vecchie. No, non ci sto. Non ci sto, cazzo. E anche Est e GG. Comunque devo dire che sto gioco si fa molto meglio quello analogico. Io non so come ho fatto a farlo con i tasti direzionali. Quella nulla ho ancora perla. Ah no, non è vero. Ho trovato la... La torcia lì, no? Sì. Via. Boh, manca solo il sud. Tra l'altro mi sa che io... I punti cardinali li ho imparati in questo gioco, ragazzi. Con questo livello ho imparato i punti cardinali. Pensate voi quante cazzo di... Quante cazzo di cose mi ha accompagnato questo gioco nella mia vita. Va bene. Ma ti ricordi che sto gioco avessero per PC lo trovai nei cereali? Sì! Ma infatti quello lì di... Di... Di bug... Di bug. Di bugs e taser. Io l'ho avuto con i cereali, ragazzi. Per questo ce l'avevo su PC quel gioco. Perché ho comprati i cereali. L'unica volta che ho comprati i cereali in tutta la mia vita. Probabilmente solo per il gioco li comprai. Ma non si stanca questo? È strano. No! Non si stanca! Come lo batto questo? Ragazzi c'è un problema tecnico qui. Vedi? Quando si stanca si riprende subito. Boh, io spero non abbia qualche carota d'oro o qualcosa del genere. No 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 era completa era completa. Pensavo anche io fosse una demo. Per questo non l'ho presi tanto seriamente. E una. Ma no. Ce le stanno facendo sudare le sveglie qui però. Cazzo ce ne sono ancora tre. E' solo... Madonna ma è poverissimo sto livello. E' solo una rottura di palle. Spieno di salti e enigme non ci danno un cazzo. Questo come lo batto? Bruciarlo con la fiamma. Eh devo bruciarlo quando è stanco però. Non lo posso fare a caso. No vedi lui mi vede a priori appena entro. Non posso neanche camminare lentamente con la torcia. Fa cazzo. No ragazzi c'è... C'è l'ultra istinto questo qui. Eh no però. Eh ma che due coglioni. Che tutti i livelli hanno stia merda e qui non si possono completare subito. Ma se mai dovessi rifare sto livello dovrei rifarlo tutto da capo. Vi rendete conto? Dovrei rifare tutta la roba co... Coi segni. Tutto. Tutto per arrivare a sta porta di merda. Che hanno ste casse? Che non si rompono, non si spostano, non hanno niente. Che fastidio. Mamma mia. Eh madonna. Santissima. Gridolo. Ci abbiamo provato quattro volte a stancarlo. L'ho detto anche dai. Eh eh allora. Stiamo guardando la stessa cosa o no? Bugs e taser era meglio per PlayStation a livello di comandi e quello di sicuro. Infatti ripeto non sono mai riuscito a giocarlo sul PC. Con tastiera e mouse era impossibile. Per non parlare dei tasti del secondo giocatore che erano... La tastiera numerica tipo. Ci ho anche provato a saltargli sopra ma a parte che loro non subiscono l'attacco dall'alto. No. 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 Stava la roccia, no? Oddio! Questo qui non lo posso né schiacciare, né picchiare Né stancare, né bruciare Non fa niente a questo qui, è mortale Aspetta, forse devo mettere un codice diverso Eh no, ma Sam ha usato questo Ah no, vedi, vedi, vado all'altra parte Io non lo sapevo usare Pensato un po' quanto ero scema Ma è normale, è abbastanza normale Fai conto che mio padre ha smesso di giocare ai videogiochi per quello Non riusciva a trovarsi assolutamente con gli analogici I giochi PS2 avevano tutti gli analogici Quindi dopo la PS1 lui, basta, ha rinunciato Minchia Minchia, pigliare e basta Eh no però, mancano due risveglie Manca un bel po', manca tutto Ma è tutto dietro quella porta con la password Non abbiamo trovato altro, o no? Senza noi c'era pietoso, era leggero e l'aveva la mia amica E' vero, è vero Sembrava una robetta di plastica da due soldi Me lo ricordo Per me questo qui ha qualcosa Provo, non si stanca Io vedo solo un baule qui No, forse c'è una strada pure Due bauli Soltanto so due bauli Sti cosi qui A me non sembrano messi a caso Sti casi Ma forse è la grafica HD Che fa cose strane Provo a farlo stancare stando a contorà Ancora Dai Ci abbiamo provato L'abbiamo provate tutte Avrebbe dovuto stancarsi 14 volte ragazzi Guarda no Si riprende subito Ragazzi più a corto ragione di così Ma attacca Non ho neanche tempo materiale di attaccarlo Per quel mezzo secondo in cui si sembra stanco Non si può Dai Dun 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 Ragazzi rivediamo un attimo qui Qua forse non siamo andati Eh però se c'è una sveglia Allora è tutto lì dentro Mi sa Dai che l'avevo colpito Bugiardo Bugiardo Non lo credete Questo bugiardo Niente Oh non ci riesco Ma dai Ma se l'ho nascosto Ma guardalo Niente Non arriva fino a qui No Mamma mia Ok Ok c'è la sveglia Ciao Giordi Sono soddisfatto Che tu possa abbandonare il livello Vabbè Ma ci sono ancora 6 carote d'oro da qualche parte Mi sembra strano Vabbè Quando avremo la formula Proviamo a tornare Ciao Merlino Eh ma grazie al cazzo Merlino Lascia che salvi la tua posizione Se tu non mi insegni la password Bastardo Sì Ci vediamo Merlino Ma qual'è l'altro livello che sarà Ok Come l'ho detto Me lo so ricordato E come l'ho ricordato Ho pianto dentro Solo che non lo sentite Ma sto piangendo In questo momento Perché sono entrato in sto livello Cosa faccio Sono scemo Cosa fa Ma è via da qui Ma assolutamente Ma cosa fai Ma perché Perché No No Voglio andare alla macchina del tempo Ho sbagliato tantissimo Oh Ti sono fatte 4 Sembra che siano ancora mezzanotte Vè Passato veloce Allora Dov'è quel bastardo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Boh mi sono ricordato Che per finire il gioco Dovevi completare la 100% Per vedere il finale Me lo sono ricordato adesso Che brutto Qui c'è Qui c'erano i robot I robot cattivi Che mi prendevano Mi facevano rifare Il livello da capo Mamma mia Mamma mia Era lunghissimo Questo livello Ultimo livello Ragazzi Tipo in armi Allora Dove accident Lì mi trovo Ehi permesso Pardonmi scusi Oh Guarda che magnifico Esemplare di terrestre Per sperimentare il mio nuovo Modulo spaziale Com'è che si chiamava sto coso Non ha mai un nome sto personaggio Ma Eccolo lì L'inizio del livello Dove mi sbatteranno Sempre qui Bastardi Che brutto Questo livello Che brutto Sono partiti da capo E dai Chi l'avevo evitato Bugiardi Tutti Non credetegli Ecco Ah Marvin E' vero Marvin marziano Ho perso una carota Dove? Ok L'ho preso No Mi sono ricordato dopo Che dovevo venire prima qui E' per attivare quello Perché La prima parte Di sto livello L'ho rifatta Migliaio di volte Perché Ho i traumi Ragazzi Salva Salva Voglio vedere Merlo Mi rincuora Ciao Lascia che salvi la tua posizione Va bene Grazie Merlo Ciao Ti vediamo Merlo Ok Ora sono più contento Non era qua però Mi sa che era un pochino più avanti Non vedo il robot Eccolo lì Vaffanculo Non farti colpire Non lo svedo Non lo svedo Eccolo Scappa No No Non farti prendere Vai via Sto stronzo Ti congelava Poi ti prendeva E faceva il cattivone Via 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 Traumi Via dai traumi Via dai traumi Cazzo No Mi sta sparando ancora Vuole farmi cadere Vuole farmi cadere Ok Ce n'è un altro E anche quello Ti ributta inizio livello Ma se vado Piano piano Fantastico Se è surpassato questo livello Lo finisci a 100% Di una sola rampa La tua giaglia è la Ma no GG allora Ok Giro a largo Eh ma devo fargli congelare Sto uccelli di merda Adesso Minchia Che palle Ma non è vero mai Che li ha colpiti Ma va bene così No Spaccati Via Via Prima che ti prenda Ok Questa Ah Mi sembra essere la mente A mettere fuori Il sistema di sicurezza Ok C'ho l'ansia Su sto livello Ragazzi Ho veramente Passato dei brutti Momenti Della mia vita Mi ricordo Dei pianti Di pianti Proprio per il vero senso Della parola Su questo livello Tipo di sti robot Di merda Madonna No ma sto andando via Da qui Troppo velocemente Me ne sto andando Troppo Ah no Oh si Non mi ricordo Da di qua Ma vaffanculo Eh L'ho notato Marco L'ho notato Ma boh Che rischio Che rischio No No L'inizio del livello Non lo voglio rivedere Grazie No è vicino Quello è resuscitato Ma L'avevo ucciso Ma l'avevo ucciso Vai Vai Muori Muori merda Vai Vax Oddio Stava per cadere No Sto andando avanti Porca troia No 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 C'era altro Da fa Torna giù Torna giù Torna giù Non mi rompi i coglioni Pure tu Merlino Dai Levati dalle valle No Non salvo Fatto schifo Ecco Come se mi avessero preso i robot In pratica Come se mi avessero preso i robot Livello da zero Vai Così ci piace Va bene Va bene Vax Va bene così Stai andando alla grande Tranquillo Io non ero pronto per fare sto livello subito oggi Per fortuna è Cioè il livello più brutto penso sia questo Adesso che i livelli peggio di questo non ci fossero C'erano altri livelli che facevano bestemmiare Ma come questo Se ti prendono qui i robot veramente ti tolgono anni di vita Ti tolgono anni di vita quei robot che ti prendono Ma non ci sarà nemmeno il video suppongo Oh no Oh no Ok lo fa ancora Meno male No 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 Aiuto Meno Grazie per avermi liberato Se il fortespio Grazie Grazie Jay Grazie 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 Basta spararmi Niente Niente Vuole congelarmi Mi vuole fare del male ragazzi Vuole fare del male Ok E uno Mo Controlliamo bene Qua non c'è altro Ok Ok Dovevo soltanto venire qua e dar un calcio a sta leva Perché non l'ho fatto subito Mannaggia a me Mannaggia a me Cosa si vede da lì lontano Un'altra sveglia Quindi non ho mancato solo una sveglia Oh no Faccio un teletrasporto qui Entrata No Aspetta se lo clicco faccio una grandissima stronzata Vabbè mi riporta l'entrata Non devo essere stupido io giusto Devo essere intelligente Quindi non premerò quel coso Mamma mia che tempismo Mamma mia Mamma mia Mamma mia No Vabbè Adesso muoio qui Mamma mia Cos'è quel beat leader La nuova funzione di Twitch Prima c'era Una volta c'era soltanto Quello lì che donava di più in assoluto In tutto il canale Adesso invece c'è il podio C'è un podio settimanale Io sti teletrasporti non li tocco Anzi Torniamo un attimo su quello Faccio un save state Se vedo che mi teletrasporto indietro Ricarico E suca Giusto Probabilmente trasporta indietro Ma invece Ho fatto bene No no Per uscita intendono Che da qui esci Cioè Spunti fuori da questo Ma non puoi entrarci Per trasportarti In quel senso Entrata uscita E' tradotto di uno Tutto qua Ok Ora abbiamo fatto tutto Non c'è il robot più brutto Dai è l'ultimo almeno Almeno è l'ultimo Ciò che qui è stretto Che fastidio Madonna Madonna No No Mamma mia Cazzo se l'ha allungata Quella merda di mano Mamma mia Via Via Lontanati da lì Mo inizia la parte bella Del livello Ora possiamo Stare tranquilli Perché se non ricordo male Tra poco Useremo noi Uno di quei robot Per uccidere Gli altri robot Il che è molto figo Il che ti fa prendere La tua rivincita Contro il mondo No aspetta Prima prendi La harotina Per usare la harotina Pensavo sbucasse qualcosa Facendo il percorso Invece no Ci sono rimasto male Ci sono rimasto male Allora Da lì sono venuto Qua Bisogna attivarli Sti cosi No Muoio così Si Ok Gat Bene In sedici alle quattro Complimentoni Grazie a tutti Per essere qui Anche a quelli nuovi Che stanno lurcando Vivi Go 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 Ok Adesso Dove ho alzato i cosi Che è qui sotto Mamma mia Ok Ti faccia proprio G No Come tempo Scherzi vero Non scherzo Vai bugs GG Ok Prendi Prendi Doviamo arrivare a 99 Voglio ancora Cosa Dove No no Forse è per tornare indietro Mi sa che è per tornare indietro Questo coso che mi spara Ma siamo pazzi Non mi piace il gioco Spero di vedere Tarzan Tarzan lo dovevamo fare l'anno scorso Poi non mi ricordo perché non l'abbiamo fatto Mi pare che le avessi chiesto Georgia Ma poi Georgia fosse scomparsa per tipo sei mesi Prima di tornare Quindi Tarzan non è stato fatto Mi sa che era andata così Allora Credo di aver tolto Le scosse che c'erano prima Vivo indietro Ok Quindi qua dovrebbe essere libero Perfetto Pogliamo tutto Non ci passa da sotto Ma sembra che ci passi Ma c'è lo spazio Baffanculo Bugs Wow Ok 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 Oh Fermo lì Mi fa pazzia Giorgina Domani Giorgina Ma perché scrivi su YouTube Giorgina perché su YouTube Qui vogliono Tarzan Qui vogliono Tarzan Giorgina Vogliono Tarzan Eccola qui Ma sì che ti cago Dammi tempo di leggere però Giorgina Io alla fine l'ho vista tante volte E volevo vederlo da stesso la mente Va bene Su inti Mi conosco solo due Che l'hanno finito su YouTube Ma non posso fare non No In realtà puoi farli benissimo Marco Non c'è problema Cazzo se gangio Vai Revenge Revenge Mi ammazzo tutti Robo bastardi Dove siete Cazzo Siamo senza un braccio Ah ho capito Gigi No Eh guarda ma questo è impossibile Ma come lo becco Ma dai non c'è la mira in questo gioco Come fa Basta spammare Più spammi il resto viene da spammare Eccoli lì Mamma mia Revenge Mamma mia Bastardo Ahia Mi colpiscono da lontano Ma non è vero mai Ma non è vero mai Anche io sono uno di quei robot di merda Quindi va bene così Un è Derek L'altro è Luca De games De cani Vabbè A parte che Derekino e io siamo amici Marco Tranquillo L'altro non lo conosco Devo essere sincero Davvero Derek ha portato Bugs Bunny E Derek porta un sacco di giochi bellissimi Eh Derek ha buon gusto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Aia Vabbè ma loro due colpi E vanno giù Difficile Devo smagliare Devo smagliarmi presto alle 11 Anzi D'avrei lavorato in coop vocale con un amico Vabbè tipo Come faccio io con Ken qualche volta Dove se salto ma non sopporto più di sentire questa ruota muoversi Ti giuro continua a farmi tornare trauma in mente Non sopporto più di sentire ma non sopporto più di sentire questa ruota Domani ragazzi Come appena annunciato l'altro ieri Olli olli Ulla hop Faremo Sbam Faremo Corpse Party in compagnia di Ciorcina in live In chiamata sul disco Non mancate Che lei Ci tiene particolarmente a questo gioco Io no Non scherzo Ok questo è Per andare avanti No non credo per andare avanti Se no non c'era Olli olli ulla hop Eh E invece No dai Si può tornare indietro Però Ma davvero il livello finiva così L'opportuna che ho fatto il serve state Così l'ha preso nel buco Eh Eh Vediamo forse non c'è altro Ma quanto è cazzo di Ma 14 Oddio ho capito Questo era il livello pieno di sveglie Vero Entro le 23 sarò a casa Sì Le 23 va bene Magari se arrivi una mezz'oretta prima Così ti prepari E se arrivi direttamente alle 23 La vedo d'una Non dimenticare la sveglia con il palo Sveglia con il palo? Oddio Grazie Cazzo Ma no è vero L'avevo pure vista prima Mamma mia Mi è salvata la vita Gridono Va bene Ciorcina Domani Con la live Allora Ce ne vuole anche Dall'altra parte Comunque mi pare che 4 sveglie Me le dia lui E non intendo 4 sveglie Nel senso 4 botte Intendo 4 sveglie Sveglie Boing Metti la sveglia Brava oppure se avevo messo pausa ma prima devo passare da un amico che stremma ogni dead of pop ma lo seguo nel 2009 e oggi è di lì quindi capite che non posso mancare un evento simile va bene Marco il doppiatore di base è fantastico minchia ma ancora vivo tra l'altro ormai i doppiatori dei lunitori hanno cominciato a morire sto scherzando poverini questo le faceva cose brutte pure bello sto boss è proprio l'essenza del platform questo boss tutto schivare saltare e schivare beh tipo mia che gli da il calcio poi lui torna tranquillamente a usare la macchina è addirittura però no 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 i doppiatori delle nostre seghe per cristina d'avena stanno iniziando a diventare vecchietti eh sì no 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 come se niente fosse come se niente fosse ahahahah 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 no ma non è vero ma non è vero ma non è vero figliacco fantastico 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 no vabbè non non dico di farlo tornare a vita piena ma almeno di rifarmi fare sta sezione mi facevi rifare la sezione da capo tanto è diviso in quattro oppure ridargli un pochino di vita pochino pochino una vita per un altro try e basta no vabbè magari dopo è troppo stressante così ho tutte eh livello completato sentiamo cosa dice Merlo e poi a lei tanto dirà sempre la stessa cosa dove stai sapendo ormai no holly holly una hop guarda che sogno fantastico perfetto hai completato questo livello eh gg oh il bidone gli oggetti nello specchio sono molto molto vicini lascia che soldi la tua posizione grazie Merlo ciao si boh andiamo lì e facciamo un self state lì davanti per sicurezza quello dove corri in macchina carino e nemmeno difficile si fa veloce mi rivedere mi rivedere non me lo ricordo proprio tutto gg non è lungo ma se sbagli devi rifare il pezzo vabbè dai proviamo a vedere proviamo a vedere che mi fido di marco oddio c'ho dei flash ecco questa scena me la ricordo perchè pigliava sempre gli stessi sacchi che non finivano mai guarda sempre quei due ehi maxi guarda un testimone prendi quello stupido coniglio non c'è problema capo ah io scappavo in macchina è vero non mi ricordo il gameplay però non mi ricordo il gameplay oddio ok era corto era corto la sono ricordata madonna completamente rimosso l'avevo questa era pure bello per davvero non devo perdere le carote d'oro però madonna scatta ah che cazzo ti scatti fanculo che scatti brutta merda ho perso una carota oddio è vero era questo mamma mia cosa mi sta venendo in mente ok per adesso ho perso solo una carota se li facciamo a livello la riprendiamo subito quella l'importante è non perdere carote qui avanti sennò poi è un casino ma non si muove in volo ma non si muove in volo ma eccoli e niente fantasto ciao e benvenuto cos'è sto ahahahahah perchè ci siamo tutti e tre ecco questa era la porta più difficile mi sa ricordo che qui ci morivo spesso perchè ricordo che ci morivo spesso madonna che botte li avevo presi madonna che botte li avevo presi mamma mia ne manca una ne manca una ne manca una dobbiamo recuperare solo due carote e mantasto grazie mille per il follo questo follo così notturno grazie mille comunque mi sparano ragazzi come se sparano per uccidere presa quante carotte mancano ok li abbiamo prese tutte cioè a parte le due che ho mancato gg gg notte gridolo ora chiudiamo riprendiamo le da carote chiudiamo lo so ma vado no ancora ma che istanzia lascia che salvi la tua posizione no aspetta merlo torno subito torno subitissimo quando trovo qualcuno che fa qualcosa che non sia l'olo c'è sempre il forno allora hai trovato il canale giusto che si fanno tutto cioè si fa di tutto dalla nei giochi mainstream più o meno magari qualche volta sfugge pub che ma accade massimo una volta al mese è solo con i sab o i follower ne avevo mancata una qui vero non mi ricordo dove però ah perché scattava cazzo perché scattava come la prendo quella lì come la prendo quella carota tu che cosa stream in genere streamiamo di tutto siamo veramente di tutto se guardi sotto il canale puoi vedere la lista di tutti i giochi completati nella live streamiamo veramente giochi ps1 giochi ps2 giochi recenti abbiamo appena finito final fantasy 15 per esempio abbiamo streamato final fantasy 6 il mese scorso per dire abbiamo fatto di vol within abbiamo fatto tutti i primi resident evil tutti i silent 20 più o meno diciamo che facciamo veramente di tutto non riesco a prendere quella carota però posso dire di aver streamato di tutto ma non posso dire di aver preso quella carota forse devo andare a sinistra e no è uguale tanto ritorno qui non ci riesco non si riesce a prendere quindi anche vecchie glorie esatto esatto nooo battene merdo ok nooo ok mo lo faccio senza frame limiti no è un casino no no però faccio un save state lì perché mi sono tolto la palla delle palla di riavviare è più bello voglio andare a nanno non so e che cazzo non è possibile colpa di quella carota che devo fare il matto vai salvati adesso vai mamma mia ok andata andata boh mo l'altra carota era su un trampolino eh che ho provato a prendere muovendomi al volo ma non si può fare in questo gioco mi sa che il prossimo trampolino è una roba cattiva eccola qui così ok ho preso ok basta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta dillo merlo dillo fantastico perfetto hai completato questo livello lascia che salvi la tua posizione minchia se devi salvarla stavolta grazie merlo si ci vediamo merlo perfetto cosa la corrida oddio perchè negli anni trenta la corrida la corrida me la ricorda vabbè la puntata dell'unitus della corrida è qualcosa di spettacolare vabbè ragazzuoli ha salvato io vi lascio qui ho veramente tanto sonno siamo a quattro ore di live nette proprio nette quattro ore e tre minuti deja vu oddio oddio il cursore impazzito di nuovo ragazzuoni ci vediamo domani con corpse party in compagnia di ciorcina non c'è nessuno online facciamo il solito giochino che facciamo sempre ovvero ostare il canale che sta facendo il gioco più interessante di sicuro non è mad team 2 di sicuro non è lol non è dead by daylight non è oddio sea of thieves però lo fanno gen troppi oggi overwatch non è fortnite non è fortnite non è fortnite non è pub che non è mass oh mass effect 3 vediamo vediamo witcher fortnite bloodborne state of decay e poi sta giocando a monkey island qualcuno strema metti in due ma soprattutto per il coraggio lo starei buonanotte a tutti comunque ragazzi vi saluto già non vedo giochi veramente interessanti mi sto sentendo in sottofondo si ok fortnite fortnite lol lol dragon ball fighter z sempre quelli ragazzi per questi stessi giochi no niente ragazzi oh bugs bunny ah sono io lascio sta lascio sta vi lascio qui vi lascio qui buonanotte a tutti